Grazie a tutti. Come sapete ci sono state delle date che poi sono slittate e via così, siamo stati a questo punto di necessità virtù abbastanza fortunati nell'approccio che sta caratterizzando questa seconda settimana di lavori e devo dire in particolare la comunicazione che farò io oggi, siamo stati fortunati per la coincidenza del Varo, del programma Creative Europe. Dicevo poco fa a qualcuno di voi che se andate in rete in questo momento e mettete presentazione programma Creative Europe, vi esce semplicemente la presentazione ufficiale del programma, che peraltro sarà molto per addetti ai lavori, ci si deve registrare perché è all'interno del Ministero dei Beni Culturali, che avverrà venerdì 22 ottobre a Roma, cui farà seguito probabilmente prima di Natale la cosiddetta Info Day che sicuramente si terrà, sembra, a Bruxelles e che forse lo Stato membro Italia vorrà comunque fare anche in Italia. Questo per dire che alla parola presentazione Creative Europe 2013 non esce niente, ti escono le cose che sono state dette su Creative Europe fino a prima dell'estate perché è evidente come vedremo che questo programma nasce dopo una gestazione particolarmente interessante, particolarmente combattuta e arrivo a dire anche particolarmente suggestiva, non ha raggiunto in termini di budget i risultati che si aspettava di raggiungere, ma in tempi di vacche non tanto grasse evidentemente il sistema si deve accontentare. E tutto sommato il bilancio che come vedremo oggi può essere accreditato a questo programma è un bilancio interessante che comunque farà lavorare il sistema nascente dell'industria creativa a cui questo programma è sicuramente preliminarmente, prioritariamente diretto. Quindi, diciamo, siamo abbastanza in tempo per affrontare subito le caratteristiche di questo programma, anche se nella, chiamiamo la lezione, ci arriveremo gradatamente perché voglio che maturi, diciamo, in voi l'attenzione che le istituzioni europee e tutto il sistema hanno avuto nei confronti di questo programma, che come ho detto non esce assolutamente per caso, e però siamo, dal punto di vista cronologico, in una gabbia di ferro perché il programma è stato approvato in Commissione Cultura del Parlamento Europeo il 6 novembre scorso, quindi mercoledì scorso, e verrà definitivamente licenziato in seduta plenaria dal Parlamento Europeo l'unedì 18 novembre. Ecco perché al MIBAC lo presentano poi venerdì 22, perché naturalmente vanno con il programma già approvato, che è già a tutti gli effetti normativa attiva della nuova programmazione 2014-2020. Oggi naturalmente noi sappiamo già tutto del programma, per cui ne possiamo tranquillamente parlare, anche in vista dei bandi che si dice, ma su questo è opportuno essere più cauti, comunque si dice che il primo bando del programma possa uscire anche prima di Natale, in modo tale che con tutte le tempistiche che la Commissione prende per le valutazioni, vi ricordo, l'abbiamo detto l'altro giorno, ormai siete assolutamente bravi su questo, vi ricordo che è un programma a diretta estrazione europea, a diretto finanziamento europeo, non ci sono intermediari, non c'entrano le regioni, non c'entra il governo, non c'entra direttamente la Commissione Europea, l'unica cosa che ogni governo è tenuto a fare è imbastire un servizio, diciamo così per intenderci, di assistenza tecnica. Quindi lo Stato italiano attiverà un servizio di assistenza tecnica, come accade regolarmente nei programmi a diretto finanziamento comunitario, che sono quelle strutture quasi sempre private, o comunque pubblico-private, eccetera, che preparano un po' il terreno e probabilmente organizzeranno le infodei e daranno una serie di supporti iniziali sui temi del partenariato, degli obiettivi fondamentali e via dicendo. Quindi voglio dire, siamo in questo momento nella condizione di approccio iniziale, ma anche fortunatamente appunto molto, molto azzeccato come tempistica, al varo di questo programma. Facciamo questo passo indietro, questa lezione sarà, abbiamo cercato di farla, io e Serena molto, chiamiamola interattiva, per usare un termine un pochino esagerato, semplicemente abbiamo cercato di renderla meno accademica, inserendo una serie di filmati e di video che chiamano in causa dei personaggi i quali tutti parlano di questo concetto di fondo che è alla base naturalmente del programma Creative Europe, che è l'economia della cultura e come si fa business. Usiamo questo termine senza nessuna remora e senza pudore rispetto alle intuizioni culturali, ovviamente consapevoli che non stiamo parlando di marmellate o di prodotti manufatturieri che si vendono sul mercato, stiamo parlando della nostra capacità di interpretare e tradurre in progetti di innovazione sociale le nostre specifiche competenze in campo culturale, accompagnati dalle competenze in campo economico, in campo di pianificazione, in campo di valutazione, che sono quelle che praticamente, come parlavamo l'altra settimana scorsa, diciamo stanno alla base di un team di progetto che si voglia misurare su questi terreni. Allora, avevamo immaginato questa frase di Victor Hugo per partire, che abbiamo già letto, ma che a questo punto ci serve per sciogliere il ghiaccio, 848, Assemblea Costituente Francese, Victor Hugo dice, dico signori che le riduzioni proposte sul bilancio speciale delle scienze, delle lettere e delle arti sono negative, per due motivi, sono insignificanti dal punto di vista finanziario e dannose da tutti gli altri punti di vista. Ecco quindi che l'esigenza che nei bilanci degli stati, diciamo, i capitoli relativi alla cultura siano adeguatamente sostenuti è un'esigenza antica e quindi possiamo dire tranquillamente che con un padre nobile come Hugo, tutti i parlamentari, i tecnici, gli operatori culturali che si sono impegnati nella gestazione e nel varo di questo programma, diciamo, avevano piena legittimità di farlo visti i precedenti. Quanto questa frase sia attuale oggi, penso che sia assolutamente inutile soffermarlo, ci stanno i nostri comuni che praticamente sul bilancio della cultura ci hanno zero euro ormai ultimamente, quindi diciamo, questo è il quadro. Andiamo avanti e cominciamo un po' quindi a capire perché nasce un programma come Creative Europe di cui in queste prime slide non parleremo. L'economia reale di tutto il mondo è sempre fondata, meno, sul lavoro fisico, uomini, macchine, sempre più fondata sul sapere, economia della conoscenza, economia dei saperi, ovviamente questi concetti travalicano il semplice ambito degli eventi culturali, delle manifestazioni culturali e dell'industria creativa, parliamo genericamente del sapere che viene naturalmente chiamato in causa ogni qualvolta delle eccellenze, delle competenze, se si mettono a lavorare sui sistemi della ricerca, delle tecnologie, basti pensare a quello che significherà per l'Italia come per tutta Europa l'applicazione del nuovo programma Horizon 2020, i cui bandi anche escono a metà dicembre, per cui a voglia quante competenze e quanti saperi potranno misurarsi su queste scadenze, il passaggio ad una società della conoscenza però si realizza semplicemente laddove c'è un ambiente culturale complessivamente creativo. E qui c'è questo primo passaggio che io vi prego di memorizzare, il parallelismo fa creatività e futuro. Non c'è futuro se non c'è creatività e naturalmente questo concetto, questa dote, questa attitudine viene prevalentemente spesa negli ambiti che sono a voi molto congeniali, ma ovviamente viene traslata senza troppe difficoltà dalle arti visive, allo spettacolo, al teatro, alla musica, alla ricerca culturale, alla storia, all'identità dei territori, cioè creatività per arrivare poi a tutte le applicazioni nell'ambito smart, smart city, smart community, smart knowledge e via dicendo. Quindi creatività e futuro. La produzione creativa è l'insieme di beni e di servizi la cui produzione richiede creatività. E quindi se noi andiamo a leggere le branche, artigianato, arti visivi, audiovisivi, design, editoria, nuovi media, spettacolo, un sistema che secondo le Nazioni Unite nel 2009 ha creato ricchezza mondiale per 4.800 miliardi di dollari, pari all'8% del PIL. Ricordiamoci questo 8% perché mentre nel mondo c'è questo 8% e immaginiamo che è una media che naturalmente tiene conto di quanto la produzione culturale e l'industria creativa possa contare in Angola piuttosto che nel Mali, viceversa evidentemente ci stanno dei paesi dove questo 8% come vedremo diventa il 15, il 16, il 17% del PIL. Eccolo qua, in Giappone e in Corea del Sud l'industria culturale rappresenta il 15% del PIL. Attenzione, in questa industria creativa giapponese e sudcoreana non c'entra l'Hitec, non c'entra l'ICT, non c'entra la ricerca applicata alle tecnologie che comunque è, voglio dire, una creatività del sapere sia pure confortata da altro tipo di competenze. In questo caso si dovrebbe sommare il 15 al 25%, quindi vediamo che cosa la innovazione dei saperi comporta in un paese evidentemente abbastanza industrializzato e avanzato, nei primi paesi del mondo come sono il Giappone e come fra poco ormai sicuramente sarà la Corea. In Europa nell'ambito della cultura lavorano 6 milioni di persone, un milione sono gli imprenditori e la quota del PIL che tali produzioni generano oscilla, stiamo parlando dell'Europa, fra il 4 e il 7%. Quindi siamo al di sotto della media mondiale, eppure parliamo dell'Europa nella sua interezza, cioè comunque è un continente fra i più evoluti, fra i più attenti alla ricerca e via dicendo, e siamo, diciamo, anni luce sotto l'est asiatico, quindi il Giappone e la Corea. Andiamo avanti. In Europa, allora, l'Europa non sta a guardare, nel senso che non si arriva a questo dato, che ahimè non è confortante, ma non si arriva nella assenza o nell'ignavia dei nostri decisori europei. Come vedremo, si parte a ragionare seriamente in termini di cultura e identità culturale nel 2005 con la Convenzione di Faro, c'è però questo passaggio formale, voi sapete che le convenzioni europee sono degli atti di totale indirizzo, che devono essere recepiti e ratificati dai singoli stati, e quindi diciamo il ciclo di vita, il ciclo di potenzialità che deriva da una convenzione europea, per quanto firmata con tutti i sacchismi, è minimo di dieci anni, se no non riesce a diventare lievito e quindi a diventare a tutti gli effetti patrimonio dei decisori, i libri verdi e i libri bianchi sono decisamente meno pretenziosi, delle convenzioni non vanno tanto sui diritti fondamentali, quanto vanno su degli obiettivi di sistema, e come tali sono più facilmente recepiti. Diciamo che da questo punto di vista il libro verde del 2011, le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare, sono cose che vi trovate tranquillamente su internet, se vi piace leggere in inglese, in francese, ma ci sono anche ormai delle versioni tradotte, sono le premesse di Creative Europe. Prima di allora era partita da Lisbona, ogni tanto sentite parlare di strategia di Lisbona, che cosa dice Lisbona dicendone in tre parole il futuro e, può c'è il verbo essere, la società della conoscenza, il futuro europeo. Questo è il più grande contributo che viene da Lisbona, che viene poi applicato in tutte le diramazioni normative dell'Unione Europea, dal Fondo Sociale all'ex programma quadro, oggi Horizon, e ovviamente lo sarà anche come principio all'interno di Europa Creativa. Prima di allora da Lisbona era partita la strategia per la costruzione di un'Europa, fondata sull'economia della conoscenza, di lì a poco sarebbe partita la iniziativa delle capitali europee della cultura, su cui magari più tardi, un attimo, passiamo, anche perché Lecce è in qualche modo coinvolta. Convenzione di Faro, ve ne stavo parlando poco fa, la Convenzione di Faro, bellissima da leggere, vi consiglio di farlo, non è stata ancora ratificata dal Parlamento italiano, però, ripeto, in questo caso è un ritardo abbastanza comprensibile, perché proprio nel ciclo delle convenzioni, quelle di seguire dei passi particolarmente cadenzati nell'essere poi recepiti dai Parlamenti, ci sono però dei Parlamenti europei che l'hanno già recepita, il nostro non ancora, sembra che sia in programma nel prossimo anno, in ogni caso l'Italia l'ha sottoscritto, ovviamente, attenzione, c'è un passaggio di sottoscrizione e c'è un passaggio di ratifica da parte del Parlamento. Nel 2005, qual è la novità di questa Convenzione di Faro? Il concetto che la conoscenza e l'uso dell'eredità culturale, quindi vediamo che porta si apre rispetto alla propria storia, storia del proprio territorio, storia delle proprie eccellenze artistiche, identitarie, eccetera, eccetera, è patrimonio, è diritto dell'individuo, cioè è un diritto dell'individuo essere protagonista della conoscenza della propria storia e della propria eredità culturale e questo diritto è quello che si sostanzia nel prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità e a godere delle arti. ovviamente è una visione che non è più una visione di società, no? La società che si avvantaggia di un'azione di sviluppo culturale farà parte di Europa Creativa, farà parte di una miriade di programmi. Qui la Convenzione non è un programma, e men che meno quindi è un bando. A che cosa si limita la Convenzione? A dire una cosa eccezionale che c'è l'uomo al centro della capacità di vivere la sua eredità culturale, visione antropocentrica, la persona al centro del processo culturale. Ora, al di là di queste oggettivamente belle parole, no? Che forse dovremmo utilizzare anche più spesso nelle nostre riflessioni progettuali, a che cosa ci può servire la Convenzione di Faro? che poi vedremo sarà ultracitata da interventi che andremo a verificare e ad ascoltare fra poco, ci può servire perché quando scriviamo un progetto culturale, quando organizziamo una rassegna culturale, quando organizziamo un festival, quando organizziamo tutto quello che noi riteniamo di avere numeri, titoli e diritto di poter utilizzare, dobbiamo pensare che stiamo ragionando in linea con un diritto fondamentale di quello che nei bandi si chiama l'utente finale, no? Il beneficiario finale. Qual è stato il suo contributo? Vai. Il beneficiario finale, cioè il cittadino. Cioè stiamo ragionando su un diritto fondamentale del cittadino, che è quello di stare al centro dei processi culturali. Naturalmente si può ragionare in questi termini sia immaginando che, dico qui approfittando dalla presenza dell'amico Pierpaolo De Giorgi e dei suoi tamburealisti, si può immaginare che il processo sia virtuoso non soltanto perché Pierpaolo De Giorgi e i tamburealisti o Franco Ciardo con il suo teatro diciamo propongono delle attività che evidentemente fanno godere dell'arte, come abbiamo sentito prima nella Convenzione di Faro, ma anche perché stai andando a sollecitare, a solleticare un interesse assolutamente inedito, originale da parte del tuo ascoltatore. Poi sta a te, no? Attivare processi per i quali l'ascoltatore è a tutti gli effetti un protagonista della tua azione di mediazione culturale oppure limitarti, fra virgolette, a godere dei suoi applausi. Dipende poi dalle forme, dipende dai modelli di partecipazione, però è evidente che ci stanno forme artistiche, specialmente quelle diciamo agevolate dalle recenti tecnologie, che vanno sempre di più nella direzione di un coinvolgimento totale dell'utente, no? Allora è bello pensare che l'utente non è uno che paga un biglietto o ammesso che si tratti di una festa paesana non lo paga, va bene lo stesso, ma è bello pensare che non sia solo quel tipo di utente, ma che sia un utente che in quel momento si sente al centro e partecipa con te di questo processo. Su questo discorso della Convenzione di Faro invito, diciamo, chiunque di voi dovrà accingersi alle attività di progettazione per Europa Creativa o per quale altro programma si voglia a tenerlo sempre presente. Non scriviamo progetti culturali che servono a noi stessi, perché falliremmo in un'azione fondamentale che non è semplicemente curata dalla Convenzione, ma è quella proprio della nostra missione di operatori culturali in questo territorio. A chi stiamo? Il Vito di Pietraroia? Va bene. Allora, cominciamo un po' a inframmezzare anche per non essere troppo troppo tediosi, troppo tradizionali. Questo prima intervista, le interviste sono tutte quante di 5-6 minuti, ecco, per cui sono abbastanza leggibili e fruibili. Pietro Petraroia, la cui intervista è presa da Ravello Lab, ci saranno qui nei video che vedrete ci saranno dei pezzi presi da Ravello Lab, che è un appuntamento annuale che l'Università di Salerno insieme a FederCulture e insieme alla Fondazione Ravello organizza in termini di, diciamo, beni culturali e valorizzazione degli stessi. Ci saranno altri pezzi tratti da Art Lab che Fitzcarraldo ha organizzato qua a Lecce non più tardi di un mese e mezzo fa e poi ci saranno altri pezzi presi da un incontro che FederCulture e la Regione Puglia hanno organizzato a Bari recentemente sul tema cultura e mezzogiorno. Allora, partiamo da Pietro Petraroia. Pietro Petraroia è stato per lungo tempo docente alla Sapienza a Roma di beni culturali, è stato dirigente del settore patrimonio culturale della Regione Lombardia, credo che in questo momento sia in pensione, ma ha un ruolo, diciamo, di tipo prestigioso, cioè alla presidenza scientifica di un ente di sviluppo della Lombardia che è un ente pubblico che si chiama Eupolis Lombardia che si interessa di ricerche di sviluppo. Lui, Petraroia, un po' per la sua natura, sta dando una impostazione profondamente culturale al tema ricerca di sviluppo. Allora, sentiamo Pietro Petraroia. Professore, ci dirà cos'è Eupolis e qual è stato il suo contributo al panel di Ravello Lab 2013? Eupolis Lombardia è un istituto di Regione Lombardia che unifica quattro precedenti componenti delle azioni di Regione Lombardia che esistono da quando esistono le regioni, cioè le componenti relative alla formazione, relative agli studi e alla ricerca, all'assistenza, al consalto, diciamo, nei confronti del governo regionale e anche alla statistica. Queste componenti, che prima erano separate in soggetti distinti, ora vengono guardate e gestite in modo molto più integrato e questo credo risponda un po' anche alle esigenze di sviluppo che oggi abbiamo per la promozione dei territori perché ci dà strumenti integrati di lettura della realtà ma nello stesso tempo di supporto agli organi del governo ma nello stesso tempo anche di formazione e di capacitazione degli operatori. Il mio intervento di stamattina un po' deriva da questo tipo di approccio perché ho inteso affermare che in coerenza con la Convenzione di Faro la normativa italiana che va dalla Costituzione al Codice dei beni culturali e del paesaggio alla nuova legge sui bilanci pubblici la 118 presenta una serie di soluzioni che possono permetterci di realizzare senza aspettare troppo quello che la Convenzione di Faro già sottoscritta e in attesa di ratifica parlamentare intende promuovere e cioè una percezione del patrimonio culturale non ridotto a un mero elenco di beni culturali singolarmente guardati e catalogati ma visto in realtà come componente di una più complessiva eredità culturale cioè visto come frutto della capacità di una popolazione di riconoscersi di riconoscere il patrimonio culturale come parte del proprio sistema cognitivo e relazionale e di conseguenza come base da un proprio impegno a preservare un futuro che è del patrimonio culturale ma nello stesso tempo è della stessa popolazione nel mondo che evidentemente si globalizza e che proprio per questo ancora di più interpella le comunità a non chiudersi ma ad essere nello stesso tempo competenti e vorrei dire disponibili a confrontare le proprie culture con il resto del mondo e in fondo quello che è avvenuto sempre in Italia presenta in ciò che riguarda il cibo noi ci prepariamo al grande appuntamento di Esposio 2015 un tema sul quale lavoro in particolare all'interno di Eppoli di Lombardia e che si porterà a una sorta di grande convivio della relazione noi stessi pensiamo bene però l'intera temi sarà tagliata i cibi più tipici del nostro paese sono spesso il frutto dell'incontro di culture e di terre estremamente diverse tre brevissime osservazioni delle cose che ha detto a parte che ha citato tre volte la convenzione di Faro come avete visto primo cultura non è più elenco di beni culturali su cui intervenire non è più materia di solo con tutto rispetto architetti restauratori storici dell'arte e via dicendo è a tutti gli effetti cultura lavorare all'interno e fuori di quei beni culturali ma pur che altro lavorare sull'identità culturale di un territorio con tutto quello che ne consegue questo è il primo concetto il secondo concetto è che il nostro target è la popolazione e questo l'avevamo detto prima parlando di una visione antropocentrica del concetto di sviluppo culturale quindi quando parliamo di cultura parliamo alla popolazione ognuno chiaramente nei limiti e negli ambiti che sceglie e a cui può aspirare terzo introduce improvvisamente un riferimento al cibo che in linea di massima diciamo fino a ieri o fino a stamattina abbiamo considerato altra cosa rispetto alla cultura se leggiamo i libri di Veronesi il cibo addirittura andrebbe quanto più possibile evitato perché dovrebbe essere secondo Veronesi la causa di tanti nostri malanni magari c'è anche del vero in questo però Petraroia attribuisce alla conoscenza del cibo alla natura del cibo alle caratteristiche del cibo un valore di trasmissione e direi anche confronto culturale questa intuizione magica sta alla base del successo di Farinetti con la sua catena di Italy in Italia e in Europa questa intuizione al di là del business di Farinetti sta nelle visioni strategiche di Expo 2015 che si farà fra due anni a Milano ma che probabilmente almeno così è nelle intenzioni di Petraroia e della regione Lombardia che stanno in questo staff di organizzazione probabilmente non sarà un fenomeno milanese cioè non stiamo parlando della fiera del cibo a Milano stiamo parlando di tutt'altro infatti è voglia della regione Lombardia italianizzare l'Expo 2015 anche perché ammette regione Lombardia che i 120 paesi di tutto il mondo che hanno già firmato la presenza a Milano in quegli anni non ce la fanno fisicamente a stare tutti a Milano ma non soltanto in termini di ricettività alberghiera ma proprio in termini di di conoscenza di che cosa oggi il sistema Italia è in grado di proporre per cui Regione Lombardia nonostante ci sia Maroni sta diciamo proponendo alle altre regioni di fare squadra rispetto all'accoglienza e rispetto alla proposta che si andrà a offrire ai nostri diciamo ai visitatori di tutto il mondo e il discorso cibo in questo momento è un discorso che riguarda energia che riguarda biologia che riguarda fame nel mondo che riguarda il ciclo dell'acqua cioè voglio dire e che riguarda anche naturalmente le qualità del cibo stesso quindi su questo tema dove naturalmente si sposano anche le legittime aspirazioni di industria di qualità italiane non a far presente che cosa oggi producono su questo tema Petraroia Expo 2015 propongono questo binomio apparentemente sacrilego fra cibo e cultura su cui invito a riflettere un po' tutti noi senza naturalmente che diventiamo necessariamente ristoratori però diciamo è un argomento che vale la pena di considerare anche perché in tutti gli appelli alla cosiddetta progettazione integrata di cui parlavo nella comunicazione nel workshop della settimana scorsa il legame fra identità culturale territorio attività culturali enogastronomia di qualità qui la chiamiamo così non la chiamiamo cibo è un rapporto che sta vivendo un trend di notorietà e di valore su cui voglio dire sarebbe il caso che ci soffermassimo ermina sciacchitano che viene la cui intervista viene ora e dunque insegna a mi sembra attorvergata li dico subito si è un architetto di insegna attorvergata ed è la responsabile per le politiche culturali all'interno della commissione europea per conto del ministero dei beni culturali anche in questo caso la sua testimonianza ci corrobora ci rafforza in questa nuova accezione al concetto di cultura uguale sviluppo su cui stiamo intrattenendoci stamattina un resoconto su questa prima parte del panel di oggi il nostro panel si è dedicato si è dedicato alla tema della cittadinanza attiva e della partecipazione e della progettazione integrata nel territorio per una migliore promozione e valorizzazione della cultura come elemento fondante per la qualità della vita e la qualità sociale dei cittadini siamo partiti dalla convenzione di faro del consiglio d'europa la convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società che è una convenzione che ribalta un po' il punto di vista delle politiche sul patrimonio culturale e l'encentra più sul cittadino sulla partecipazione del cittadino e sulla comprensione dei valori che il cittadino assegna al patrimonio culturale in questa prima parte abbiamo visto come degli esempi concreti realizzati dal masso dalle associazioni dalle organizzazioni dei cittadini mirano proprio a migliorare la qualità degli appoggiati sul patrimonio culturale e poi ci siamo interrogati anche a livello di autorità regionali che continueremo nel pomeriggio sulle quali sono più strumenti per far sì che queste iniziative non potresti ma delle iniziative isolate ma possono diventare delle iniziative sistematiche per le nostre pari esempi vabbè abbiamo sentito abbastanza poco in ogni caso il panel a cui faceva riferimento Sciacchitano sempre di Aravello era il panel su cittadinanza attiva e patrimonio culturale avete visto anche lei ha citato la convenzione di Faro e quindi senza che ripetiamo le cose che dovrebbero essere già state metabolizzate andiamo e insistiamo in questo concetto che fare cultura è rispettare un diritto fondamentale del cittadino introdurlo nei processi di sviluppo della sua eredità culturale abbiamo visto quindi allora chiudiamo questa fase memorizzando questa è la mia proposta in maniera ormai ineludibile i concetti della convenzione di Faro da cui invito a ripartire qualsiasi progetto culturale voi vogliate scrivere è un problema di lievito uno può essere un predicatore un evangelizzatore sulla faccia della terra e può farlo bene o male parte da alcuni principi forti senza il quale la sua opera è fine a se stessa è semplicemente un finto predicatore in questo caso se vogliamo fare progetti culturali partiamo dal concetto che poi è quello che ha detto Sciacchitano di cittadinanza attiva per usare un termine diciamo un po' più di moda che ci è molto familiare prima di Creative Europe ci si trovava ci si è trovati davanti però vedete come naturalmente poi alle parole è abbastanza difficile far eseguire sempre i fatti ci si è trovati davanti a questa diciamo valutazione che il Parlamento Europeo ha fatto secondo la quale con tutto rispetto per Faro e per le cose che stiamo dicendo la cultura ma ahimè anche il turismo e per noi in questo momento che viviamo nel Salento che è un brand che sta all'apice e che per spero ancora 5-10 anni sta cosa durerà perché i cicli da questo punto di vista sono abbastanza lunghi no? non c'è né cultura né turismo all'interno della checklist degli obiettivi strategici che la Commissione Europea si dà per la prossima programmazione 14-20 che attenzione non è che vuol dire che abbiamo raccontato Bardellette fino a un attimo fa e che il programma Creative Europe sarà approvato il 18 giusto per dare un contentino a un poco di operatori culturali però lo stanziamento di fondi in maniera massiccia non viene evidentemente non si può assicurare nel momento in cui non si riconosce un carattere strategico a quel settore e questo la Commissione Europea non lo ha fatto come vedremo in un'intervista che spero si senta meglio della onorevole Silvia Costa più in là che è la relatrice di Creative Europe a Parlamento Europeo addirittura c'è stato un momento in cui lo Stato italiano era diciamo tentato di votare contro il bilancio della Unione Europea questo discorso risale a giugno scorso perché in questi in questi paletti che vedete lì non c'è la cultura e non c'è il turismo ci stanno per carità ricerca innovazione e quindi Horizon 2020 tecnologie dell'informazione della comunicazione la cosiddetta agenda digitale poi è evidente che la cultura rientra nelle tecnologie della comunicazione però diciamo sono uno strumento in quel caso al servizio della cultura è chiaro che la mia amica Anna Bruno che si diverte a fare le app sui musei e sulle emergenze culturali e lei lo può fare come ingegnere è molto brava e quindi da questo punto di vista diciamo il legame c'è è però uno strumento se non c'è la consapevolezza della identità e se non ci sono poi fondi perché i musei siano aperti alla fine con tutto rispetto per le app stiamo parlando di qualcosa di relativo no? Competitività delle PMI e quindi prevalentemente FESR transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio e quindi ancora FESR e programma LIFE in parentesi vi dico i programmi fondamentali a cui questi obiettivi si vanno a rifare adattamento ai cambiamenti climatici e gestione dei rischi per carità diciamo sono situazioni di assoluta urgenza e di assoluta importanza non dico questo tutela dell'ambiente ed efficienza delle risorse prevalentemente LIFE delle risorse efficienti anche smart communities e quindi come vedete sono questi i famosi obiettivi che leggete in tutta la diciamo pubblicistica che in questo momento ci sta aiutando a capire come sarà questo quadro 14-20 la cultura e il turismo non ci sono eppure uno studio dell'Achea che è una agenzia di ricerche e di studi della Commissione Europea già nel 2010 aveva testimoniato la importanza dei fondi strutturali e quindi del FESR a rendere attrattivi città e territori unire creatività e innovazioni convertendo economie locali in via di deindustrializzazione verso infrastrutture e servizi culturali e turistici a questo punto vi dico subito che come ovviamo a questa che è oggettivamente un gravissimo gap come ovviamo passiamo la palla e la parola alle regioni cioè sono le regioni a questo punto e sono gli stati membri che sia pure nel rispetto di stanziamenti della comunità della Commissione Europea che evidentemente sono penalizzanti rispetto agli ambiti di cui stiamo parlando però ci sono due strumenti con i quali gli stati e quindi le regioni sono in grado di invertire leggermente questa tendenza perché poi alla fine all'interno del plafondo generale del plurifondo c'è una certa autonomia da parte sia degli stati che delle regioni e quindi attendiamo con grande ansia che sia i PON a diretta gestione statale e sia i POR a gestione regionale nel FESR e nell'FE e nell'FSE ma io arrivo a dire anche nei fondi per l'agricoltura dal momento che abbiamo parlato di territorio dei cibo e di elementi vocazionali del territorio quindi agricoltura arrivo a dire che andremo a vedere che cosa in questi singoli strumenti la nostra classe politica a questo punto non più quella europea la nostra classe politica riesce a recuperare è un modo per stare al passo con le premesse di cui ho parlato fino a questo momento e sì allora vediamo questo video che Silvia Costa di cui parlavo prima ha realizzato quando doveva venire a chiudere i lavori di Artlab 13 dice a Lecce il 28-29 settembre una cosa del genere non potete venire e mandò per Lecce per Artlab questa intervista grazie a Lecce per la Artlab ringrazio moltissimo per l'invito di Fisca Rallo per questa iniziativa a cui speravamo di partecipare ma è assolutamente impossibile però vi ringrazio per la possibilità di poter interlocuire con una tavola rotonda così interessante e importante e preghiera di ricevere poi da voi i vostri interventi perché mi interessa moltissimo la cosa di leggere come forse voi saprete il tuo parlamentare europea nella Commissione Cultura del Parlamento Europeo sono redatore di Europa Creativa che è il nuovo programma settennale 14-20 2020 sulla cultura la creatività e il media si tratta di un programma importante perché va nel solco di un programma che ha avuto un successo ormai da 20 anni che è quello di media e perché riprende rilancia anche i temi del libro bianco sull'industria culturale e creative e quindi da un impulso diverso un approccio diverso alla possibilità di progettazione che quindi riguarda sia il livello transnazionale naturalmente dell'Unione Europea ma anche con forti ricadute su quello che è lo sviluppo territoriale e l'innovazione e la creatività e la cultura unendo appunto tutto ciò che è creativo e culturale i campi sono a più o meno quelli che erano già nella presente programmazione ma naturalmente con delle profonde novità che vengono dalle nuove sfide che deve affrontare l'Europa su questo campo penso per arrivare a tutto il tema del digitale penso alla interdisciplinarietà penso anche delle esperienze interessanti con smart cities come le capitali europee della cultura come la capacità di legare tecnologie patrimonio culturale che possono veramente creare presupposti anche di piattaforme culturali di network europei che si vanno a creare in cui l'Italia deve stare dentro in modo intelligente unendo profit e non profit e giocarsi da perdere del futuro chiaramente il taglio che il Consiglio dei Ministri ha dato con un sofferto accordo a cui il Parlamento poi ha ceduto in cambio di altre diciamo per fortuna altre innovazioni nella programmazione è tale per cui il budget progressivo sarà intorno a 1,4 miliardi da precedente 1,8 come tutti i programmi ha sofferto anche la faccia però io ci tengo oggi visto il panel come è costituito visto l'approccio più strutturale con questa che danno quindi più diciamo di divisione insieme fare una riflessione devo dire a monte del programma specifico di cui mi sono occupata e di cui sono regatori naturalmente informo che entro novembre dovrebbero essere approvati tutti i programmi pluriannali in plenare a Strasburgo c'è un dato ed è anche un po' una contraddizione anche in Europa da un lato la cultura la valutazione del patrimonio materiale e materiale la filiera della creatività e delle nuove imprese che giocano sull'innovazione è diventata finalmente anche nel Tanto di Lisbona una nuova dimensione dello sviluppo a mio giudizio dovrebbe diventare una nuova dimensione anche del concetto di sostenibilità non c'è solo sostenibilità ambientale economica e sociale ma anche culturale ma e quindi la lezione è sempre ormai come dire metabolizzata ma dall'altro quando la Commissione Europea ha presentato i nuovi programmi io sono praticamente saltata sulla sedia e ho cercato di fare un lavoro che mi sembra di aver dato alla fine qualche frutto e sono anche molto fiera insieme anche alla mia delegazione della PD a Dossel ma anche poi sono miti per fortuna altri colleghi sia italiani che altri paesi ma all'inizio siamo stati praticamente un po' ai soli perché io ho avuto dare uno sguardo insieme e abbiamo scoperto che nei fondi strutturali cioè la politica di coesione che sarà intorno ai 325 miliardi per i 7 anni per i 28 paesi non c'era più un riferimento alla parola cultura alla parola patrimonio culturale e a tutto ciò che è perfino il turismo in qualche modo era visto in un secondo piano stessa cosa per Horizon 2020 cioè un nuovo programma sulla ricerca sono circa 72 miliardi quindi è una grande potenzialità per la competitività per la ricerca per l'innovazione la parola patrimonio culturale era sparita non c'era riferimento alle scienze umanistiche e questo mi sembrava una verità straordinaria così come invito anche a vigilare molto fortemente perché l'agenda digitale e digitalia sia come dire presidiata anche dai beni culturali nella governance e poi c'era va con un occhio che talvolta siamo un po' distratti su questo ma penso che le impugne siate molto edotti anche tutta il budget sullo sviluppo rurale che sono circa 35 miliardi di euro complessivi che vanno assolutamente più fortemente integrati con servizi e prestituzioni culturali ecco lo dico perché ho cercato dal relatore di Europa Creativa di avere uno sguardo insieme e di prendere molto sul serio il Trattato di Lisbona quando dice che la dimensione culturale di tutte le politiche è mantenuta presente perché si tratta di una dimensione che garantisce anche la tutela della diversità culturale la promozione del dialogo interculturale l'innovazione e le industrie culturali creative europee ecco questo è un punto importante da cui partire quindi a maggior ragione visto che vi occupate del tema di come rendere più efficace la spesa in questo campo come rendere più efficaci le politiche anche regionali dopo l'esperienza dei sette anni precedenti che è una stata dell'antissima per l'Italia io penso ci sia una grande questione di governance una grande questione di progettualità e di strategie che mettano insieme prima degli obiettivi pluriannali della capacità di creare network europei quindi la ragione europeo capacità di investire anche sulle competenze non soltanto sull'hardware e fare una programmazione che sia poi diciamo che veda poi una volta definite questi obiettivi strategici possibilmente anche con l'intesa più diciamo progetto paese su quelli puoi scegliere quali sono le risorse più giuste e diciamo il ventaglio di le opzioni più giuste per dare una forza di prospettiva questo è l'indirizzo sul cui dobbiamo lavorare ne abbiamo parlato mi ricordo molto bene la macerata e abbiamo avuto anche con gli amici barchetti gli altri bellissimi scambi sono certa che lei ci sarà una tappa importante e credo che alla fine di questo percorso di approvazione dei programmi mi farebbe molto piacere rivederci tutti insieme magari a Roma per fare un po' un rilancio anche dei vari ministeri e delle regioni interessate per non perdere di vista questa occasione ho visto purtroppo ancora che in alcuni piani regionali ancora non c'è la sufficiente forza della proposta delle politiche culturali all'interno ricordatevi che noi ci siamo battuti a Bruxelles fortemente per reinserire questo è stato fatto un buon lavoro negli accordi paternariato fra il Dipartimento per le politiche di coesione i beni culturali immagino anche il Mise e la Commissione per inserire comunque questi temi dentro le cose strutturali anche se abbiamo perso purtroppo la battaglia che era quella di mettere cultura e turismo come dodicesimo asse e non dei beni culturali come dodicesima priorità questa è una battaglia che andava fatta io avrei messo del più il veto su questa come paese non è stato fatto però abbiamo almeno ottenuto che questa presenza di tematica ci sia e debba essere proprio a questo punto ben valorizzata nei piani credibili regionali vi faccio tantissimi auguri sono chiaramente molto interessata all'ese dei vostri lavori e sono certa di ci vedremo molto presto grazie vi chiedo con calma a casa di andarvi a rivedere questa intervista basta mettere Artlab Lecce13 e di cliccare poi su video interviste fra le varie interviste ti esce questo che è il contributo che dette Silvia Costa che non è un'intervista è un collegamento che facemmo allora in videoconferenza come vedete ha detto quello di cui abbiamo parlato fino a questo momento cioè la difesa di Europa Creativa intanto si giustifica sia pure nella totale autonoma dignità del programma Europa Creativa però si giustifica nel momento in cui tutte le politiche coordinate sia dell'Unione che degli Stati Membri vanno nella direzione del rafforzamento degli ambiti culturali promozionali turistici creativi nei diversi strumenti e quindi il suo appello alle regioni è quello che abbiamo fatto noi dieci minuti fa cioè speriamo che nei por le regioni sappiano riprendere ciò che ancora a livello comunitario non ha fortissimi stanziamenti di budget il fatto che i concetti di cultura e turismo è vero non stanno negli obiettivi strategici dell'UE lo abbiamo visto ahimè poco fa e avete sentito che l'Eine se ne lamenta al punto tale da dire fosse per me avrei posto il veto anche se la cultura e il turismo possono rientrare con l'agenda digitale con le smart communities e con l'horizon d'accordo però è evidente che da questo punto di vista questo pedaggio lo paghiamo però poi siamo riusciti sono riusciti a reinserire le assi forti di cultura e turismo all'interno dei fondi del piano di coesione quindi del FESR quindi degli strumenti che le regioni direttamente potranno rendere strategici e rendere operativi questo così era un passaggio che mi era venuto questa slide sentendo l'intervista di Silvia Costa che parla del valore dell'idea creativa e quindi ho messo questo concetto su cui invito a ragionare del design thinking del pensare creativamente del riuscire proprio a immaginare un modello di comunicazione che sia creativo che adotti i linguaggi della creatività e che naturalmente non sia alieno a quello di cui lei parlava lei parlava di miglioramento delle competenze e quindi parliamo di formazione da questo punto di vista la formazione su questo tema è stata fino a ieri che dico fino a oggi esclusivamente no delegata alle facoltà dei beni culturali se vogliamo andare proprio sullo specifico fatto salvo alcune lodevolissime eccezioni che però sono particolarmente delle scuole di specializzazione post universitarie non vi sembri diciamo strano che oltre che quella della Bocconi che c'ha proprio un specifico dipartimento di economia della cultura l'esperienza più interessante nell'ambito della valorizzazione dell'industria creativa è a Salerno con il laboratorio Creativitas di cui oggi di cui più tardi sentiremo il responsabile il professore responsabile che è una fucina di attività che hanno a che fare con il design con il co-working e con il pensare insieme sulla creatività sugli hub sui laboratori tutte cose che voglio dire grazie a Dio noi non stiamo in un paese arretrato da questo punto di vista in una regione arretrata la Puglia sia pure con i limiti di cui parlavamo la settimana scorsa ha fatto molto da questo punto di vista e però ecco su questo e per esempio sulla formazione c'è bisogno che il sistema sia completamente ripensato perché se tu vai io non so se c'è qualcuno di voi che è laureato in beni culturali e che esce da Lecce ma se uscisse da Perugia non sarebbe molto diverso la informazione accademica e scientifica che recupera al termine della sua esperienza universitaria è di conoscere che cos'è un bene culturale ma se gli chiedete come si gestisce un bene culturale e come si fa economia da un bene culturale e come al di là del bene culturale inteso infrastruttura immobile collezioni musei eccetera come si lavora sull'indotto di un bene culturale o di un territorio a fortissima vocazione culturale da questo punto di vista stiamo all'anno zero e quindi quello che diceva Onorevole Costa di lavorare anche sulle competenze mi sembra che qui il sistema della formazione dovrebbe farsene carico quindi lancio un appello a Lucia Vincenti e ad Aforisma perché da questo punto di vista il management culturale diventi una priorità nella programmazione andiamo avanti volete fare pausa o andiamo avanti siamo un po' strettini per cui se magari la pausa la facciamo fra una mezz'oretta ma molto molto breve io preferirei cioè io vorrei fare in modo che la pausa la facciamo prima che poi entriamo nel clou di Europa Creativa forse è più razionale così allora abbiamo parlato di Creativitas di questo laboratorio che c'è all'Università di Salerno e che è uno dei soggetti istituzionali che sta alla base dell'esperienza molto interessante di Ravello Lab Fabio Borghese è il direttore di Creativitas quindi è un docente dell'Università di Salerno siamo qui con mi chiediamo innanzitutto le impressioni su questi tre giorni di Ravello Lab è stata un'edizione direi straordinaria perché c'è stata una partecipazione di profili di altissimo livello e si è riusciti a lavorare in modo incredibile con grandissimo spirito di gruppo e siamo riusciti in particolare nel panel che ho curato io quello sul processo di incubazione delle industrie creative e culturali a prototipare un modello di incubazione per le imprese culturali e creative che può essere un punto di partenza importante per i paesi europei come riferimento per il futuro dell'industria culturale e creativa in termini proprio appunto di incubazione e di rapporti con i territori si è riparlato si è riparlato molto anche della necessità per sviluppare tutte queste nuove modalità legate alle industrie culturale e creativa e dell'importanza del networking l'importanza del networking è fondamentale perché solo attraverso le reti si riescono a creare quelle connessioni e quei flussi sia di informazioni di saperi che è proprio di scambio vero e proprio invece legato a elementi di carattere fisico necessari ad attivare i processi giusti all'interno delle imprese nascenti perché le imprese nascenti hanno bisogno sicuramente di confrontarsi con un contesto sia territoriale che metodologico di carattere multidisciplinare per capire come leggere le dinamiche della catena del valore della contemporaneità solo attraverso un approccio di tipo multidisciplinare che non può non lavorare che in ottica di rete si può immaginare dei percorsi efficaci e efficienti per i processi di incubazione e di stimolazione futuri sì prima di dirvi qualcosa in più a commento di questo sentirei anche Bas Ernst Bas Ernst che era sempre presente a Lavello e l'ha detto agli affari culturali dell'ambasciata dei Paesi Bassi e in questo momento io ho scoperto a Ravello qualcosa che non immaginavo cioè la prolificità in termini di idee e di volontà di collaborazione che hanno le ambasciate europee in questo momento sui temi della cultura noi solitamente pensiamo alle ambasciate come luogo di formalizzazione burocratica di ingressi di visti tutto sommato anche di preparazione formale delle carte per cui un industriale va e cerca di piazzare i suoi prodotti oltre Adriatico oltre eccetera quando ti incroci con alcune situazioni come quelle che io ho conosciuto a Ravello devo dire che da questo punto di vista i Paesi del centro Europa sono particolarmente interessanti da cogliere in pratica questo signore ci dice che la sua ambasciata sta lavorando con la regione Veneto per un progetto di valorizzazione culturale mista integrata e che porta evidentemente poi ovviamente flussi turistici fra Olanda e Veneto che è qualcosa di cui in linea di massima se fossero attività commerciali dovrebbe occuparsene lice l'istituto commercio con l'estero se fossero attività turistiche dovrebbe occuparsi l'ENIT internazionale per il turismo insieme all'ENIT invece in questo momento il volano di questo progetto è l'ambasciata attraverso un addetto culturale che evidentemente ha di suo delle attitudini delle sensibilità delle competenze che lo legittimano a lavorare in questo tema dico questo perché quando alzo la mano io per primo abbiamo scritto in passato decine e decine di progetti che avessero a che fare con un target internazionale e che richiedessero nel partenariato il bisogno di avere partner internazionali ci siamo quasi sempre quasi sempre affidati alla nostra per carità pregevole rete di tipo personale esperienziale abbiamo fatto un progetto io e Pierpaolo sulla sulla pizzica siamo andati a pensare in Grecia a un gruppo e a un gruppo culturale che aveva avuto rapporti ed è giusto che sia così perché è il famoso passaparola che è esperienziale laddove però ci fossero programmi che ti invitano a lavorare su ambiti che non conosci con i quali non hai avuto particolari esperienze allora piuttosto che non fidarsi di una sorta di checklist che in qualche modo circola in rete diciamo che per esempio il passaggio dall'ambasciata come ci dimostra questa intervista potrebbe essere importante dobbiamo fare un progetto con la Lituania non abbiamo nessuno in Lituania proviamo ad andare all'addetto culturale dell'ambasciata della Lituania a Roma e casomai ci può indirizzare su questo dico questo ripeto scoprendo l'acqua calda vediamo qual è la sua opinione circa i dati emersi dal brainstorming di ieri per quanto riguarda il progetto dell'incubatore perfetto ma ottimo è un po' miracolo di Ravellola metti insieme professionalisti che non si conoscono dall'Italia dai vari parti dall'Europa di Pai Pequen sono incubatori duri diciamo non solo per la cultura ma anche di altre attività centri di produzione culturali ma anche regionali e guarda esce fuori un nuovo modello che è molto utile perché per noi è un vivo laboratorio un momento di creazione di nuove idee è un ottimo input per i futuri progetti quindi per me io sono contentissimo e molto soddisfatto e anche la collaborazione con tutti quanti ha funzionato proprio bene la coesione sociale l'innovazione gli incubatori culturali sono state più o meno i concetti chiave di queste giornate di Ravello Lab cosa crede che si possa fare concretamente per il futuro partendo proprio da questi concetti sono temi molto macro come ha detto l'ambostruttore appena fa in un caso dell'Olan ma credo anche in altri paesi questo struttore genera più posti di lavoro e questa è la base la Repubblica Italiana è fondata solo sul lavoro giustamente e comincia lì poi la cultura che è benessere abbiamo una popolazione che diventa sempre più anziana quindi ha anche bisogno di assistenza e da certe ricerche di alcune ricerche risulta chi frequenta di più il mondo culturale ha una qualità di vita maggiore e quindi ha anche un modo molto attivo di prevenzione quindi bisogna cercare i momenti tramite la cultura dove dare una spinta anche al welfare della gente a noi da tenere un compito di mettere insieme delle persone giuste a controllare una roba che dobbiamo poi evitare i famosi birth words che vanno bene in un certo periodo che è un terreno più concreto e a questo serve Ravello perché così abbiamo il confronto con tutti i specialisti che possono anche stroncare un po' le cose che fanno alla moda e entrare nel merito delle cose scusandomi scusandomi per il livello tecnico ma se voi andate su Ravello Lab 13 questi video li trovate esattamente come Art Lab l'altro che ho detto prima alla fine della pagina c'è anche lì servizio di trascrizione bla bla video interviste ci sono tutti e li sentite meglio anche altri rispetto a quelli che vi sto proponendo stamattina direi che si vede che è olandese cioè direi che si vede che sta un po' su perché diciamo che cosa introduce questo addetto culturale dell'ambasciata dei Paesi Bassi introduce un concetto che è tipicamente nord europeo e che ha segnato anche diciamo la differenza nell'organizzazione della società e dei servizi fra i paesi prima era soltanto la Scandinavia che ora diciamo evidentemente rispetto a noi cioè ti introduce il concetto di benessere sociale parla di welfare e parla dell'allungamento della vita attiva degli esseri umani europei ma direi in genere particolarmente europei perché stiamo bene viviamo bene ci curiamo per cui campiamo fino a 90 anni e via dicendo e Ernst praticamente unisce il concetto di produttività culturale e di pensare cultura immaginandolo anche al servizio di menti che sono fino a ieri state reputate praticamente diciamo utili semplicemente a portare il cagnolino a passeggio alla villa e che invece hanno evidentemente oggi una vitalità un'energia trae da essere a tutti gli effetti soggetti non soltanto utenti e quindi non soltanto utenti del teatro dialettale perché ricorda loro l'infanzia ma utenti partecipanti di progetti per cui un altro stimolo che io vi do quando pensate ai progetti culturali non li pensate solo in termini di come pure ha detto all'inizio Ernst occupazione giovanile che naturalmente è un elemento che diciamo sta a cuore se si pensa alla società del domani i nostri figli i nipoti eccetera eccetera ma pensatela anche in termini di vostro ruolo sociale rispetto alle modifiche che nell'assetto diciamo attuale sono intervenute con riferimento alla presenza di popolazione più avanti nell'età ecco vedete quindi quanti stimoli stanno venendo da questi spezzoni di interviste di testimonianze di pensieri sul fare cultura quando qui le interviste di Ravello parlavano di panel forse ho sbagliato a non dirvelo prima si riferiscono a due gruppi di lavoro chiamati in qualche modo ormai panel che erano distinti fra di loro e che poi sono stati in qualche modo sintetizzati nelle conclusioni della giornata finale i due gruppi su uno non mi soffermo perché ne abbiamo abbondantemente parlato anche la volta scorsa era quello della progettazione integrata e di come quindi partendo dal bene territorio il cittadino riscopre la sua eredità culturale leggi convenzione di faro attraverso la capacità di fare sistema la cultura che fa sistema questo era l'argomento del primo panel su cui vi devo dire l'intervento penso che molti di voi conoscono di Carlo Infante di Urban Experience è stato estremamente trascinante parlando dell'importanza della emozionalità nel turismo come può essere la emozionalità nel turismo e nella cultura come può essere gestita attraverso le tecnologie quindi diciamo siamo andati su provocazioni di notevolissimo livello la sentimento l'analisi se no è uno degli strumenti che oggi è al servizio della misurazione anche se vogliamo delle emozioni del fruitore ok il secondo panel era lo avrete capito su incubatori networking co-working il concetto nuovo di incubatori che non è quello diciamo del centro integrato che ospita le imprese ma è le manifatture Cnos in qualche modo le Cantelmo anche se in una maniera un pochino così un po' più formale un po' più a volte discutibile ma comunque diciamo a Bari ce ne sono di diversi di incubatori diciamo che da questo punto di vista il ruolo dell'incubatore è oggi per quanto riguarda le imprese creative un ruolo essenziale e mi piace questa frase che ora vi leggerò che fa parte del documento finale di questo panel di lavoro lì a Ravello ascoltate l'incubatore del futuro una stazione creativa stazione creativa che si interfaccia direttamente e dinamicamente con il territorio aggiunge un tassello in più rispetto ai modelli vigenti è una fase che vogliamo definire vogliamo sarebbero diciamo gli scienziati che hanno partecipato a questo panel che vogliamo definire la fase della idea generation idea generation generazione dell'idea il punto chiave di questa fase è focalizzato su un'azione di stimolazione nei confronti di tutti gli attori del territorio insieme ai quali far nascere le idee creative e successivamente un lavoro sulla evaluate proposition quindi sulla capacità di autovalutare o di valutare ex ante le idee che viene sviluppata con una metodologia che coniuga coniuga lo dicevamo prima il design thinking quindi il pensare creativo con il business management quindi con la capacità di leggere il business e con i linguaggi della innovazione creativa quindi questo confronto dell'embrione della nascita della idea generation è il frutto dell'incontro fra il pensare creativo il pensare business e il ragionare confrontarsi comunicare con i nuovi linguaggi ovviamente anche quelli della tecnologia un'attenzione particolare è da rivolgere ai territori in cui far nascere gli incubatori intesi così come questo modello lo sta descrivendo questi ultimi questi incubatori dovrebbero essere distanti dai soliti centri industriali e inseriti piuttosto all'interno delle città e comunque vicino alle università ai centri accademici per intercettare multidisciplinarietà del luogo interagire con esso creare spazi di co-working e networking vere e proprie stazioni creative dove non sia dove sia piacevole andare non solo per interessi di natura economica e ambienti fortemente caratterizzati da una vocazione internazionale pensiamo per esempio a tutto quello che c'è dietro le residenze artistiche di cui i nostri giovani i nostri laureati le nostre associazioni i nostri studenti che vanno in Erasmus cioè tutto questo tipo di grande platea può oggi arricchirsi e abbeverarsi diciamo che questa frase terminale all'interno del documento finale del gruppo di lavoro sugli incubatori mi sembra particolarmente interessante e sta alla base questa e gli sviluppi di questo pensare sta alla base di qualsiasi progetto noi volessimo immaginare o più di noi i nostri decisori perché è un po' difficile immaginare che l'incubatore nasca per singola volontà di un'associazione un'associazione partecipa a un processo di immaginazione di un incubatore che evidentemente è giusto che sia in qualche modo agevolato accompagnato assistito da un ente pubblico che ha dei finanziamenti per rendere per esempio questo centro agibile e fruibile è quello che già la settimana scorsa noi dicevamo ricordatevi queste famose tre P di cui ormai diciamo il nostro linguaggio anche per acronimi si riempie PPP partnership pubblico privata su cui ormai ragioniamo evidentemente in termini assolutamente ineludibili a che stiamo? ah diciamo che avremmo abbastanza esaurito la fase insomma che chiamava in causa come l'Europa siamo partiti da come l'Europa sta avvicinandosi a questa nuova concezione della cultura e direi che sempre prima di una breve pausa e prima di passare all'illustrazione proprio di Europa creativa questo diciamo accenno all'Italia non guasta che cosa dico? che il governo della cultura nel nostro paese è frammentato ha poca personalità e sconta la miriade di competenze periferiche no? le famose noi conosciamo il braccio armato del MIBAC del Ministero dei Bini Culturali per opera dell'azione delle sovrintendenze che la cui attività e la cui ragiondesse risale ai tempi del fascismo e di cui leggiamo sui giornali di cui ricordiamo l'esistenza sui giornali quando bloccano i lavori della ex massa perché hanno trovato guarda caso in una città che praticamente sull'ecce sotterranea sono stati scritti i fiumi di libri dai nostri nonni e si stupiscono se fanno un parcheggio sotterraneo e scoprono che c'era la città messabica c'è ancora chi si stupisce ok siccome si va avanti così la sovrintendenza ogni volta ricorda che non ti devi stupire ecco quando interviene la sovrintendenza dopodiché il cantiere si blocca ci sono mesi di trattative si isolano male le cose si dà l'autorizzazione di ripartire questa è la sovrintendenza anche per carità è giusto che qualcuno faccia questa cosa no? e però insomma immaginare che il ministero dei beni culturali sia solo questo no? allora non ha competenze sui musei non ha competenze salvo quelli nazionali nel nostro caso solo quello di Taranto non ha competenze su niente su niente delle cose che abbiamo parlato fino a questo momento non ha competenze sull'economia della cultura non ti dice come si gestisce un museo non ti dice come gestire una biblioteca non ti dice come realizzare la notte della Taranta la notte della Taranta e tutte le cose annesse e connesse seguono un loro iter che è stato assolutamente indipendente dal fatto che il ministero l'abbia capita non capita apprezzata non apprezzata no? dico la notte della Taranta per dire un brand qualsiasi che c'ha probabilmente conoscere un po' di più di prima ma potremmo parlare festival della Valle d'Itria altre cose non c'entra niente il ministero se non forse alla fine per recuperare qualche spicciolo perché immagino che sia il ministero che più di tutti poi subisce la mannaia dei tagli come probabilmente vedremo allora a di là ora dei tagli quello che stiamo mettendo in discussione è la organizzazione la strutturazione del sistema Stato e del sistema Governance rispetto al concetto di cultura assente dal dibattito e dalle dinamiche sulla formazione ovviamente lo dicevamo prima che sono anche quelle sulla cultura totalmente assegnate al MIUR e alle diciamo diramazioni del MIUR ma se andiamo a immaginare di trovare in rete master in economia della cultura passiamo da Milano forse passiamo dal Politecnico di Milano per gli aspetti più relativi al design all'urbanistica all'architettura eccetera passiamo dalla Bocconi per gli aspetti più del management scendiamo a Salerno basta stop stop a LUIS non c'è nulla la LUIS è la scuola di alta formazione degli industriali italiani che cosa vuol dire che quindi all'impeditore della cultura non viene riconosciuto adeguatamente il rango di industriali è ovvio quindi voglio dire non è soltanto una carenza del sistema pubblico è una carenza che sconta tutto il sistema di governance non progetta né assiste chi progetta sull'asse creatività cultura paga il fio di decenni di attenzione esclusiva al sistema dei beni culturali di tipo museale peraltro gestiti in maniera assolutamente indegna rispetto come dovrebbe essere e come l'Europa ci dovrebbe insegnare da qualche parte forse lo dice Silvia Costa più tardi non vedete di nuovo Silvia Costa vedrete delle slide che ci ha autorizzato a promulgare tutti i musei italiani se non sbaglio incassano in termini di biglietti meno di quanto incassa solo il Louvre in Francia e non è che poi voglio dire i nostri facciano proprio così pena noi abbiamo a reggio di caserta qua presente voglio dire che è un esempio di bene sottoutilizzato sottoutilizzato la crisi economica in corso sta mettendo in luce i limiti delle politiche culturali perseguite sino ad oggi un modello economico e ideologico che ha dirottato la maggior parte delle risorse comunque storicamente esigue verso la pura conservazione al di fuori di circuiti virtuosi di messa in rete e di produzione culturale l'eredità di tale impostazione è stata la prevedibile difficoltà per il settore di fronteggiare quella riduzione di finanziamenti esterni che oggi è più che mai preoccupante questa è la concezione della governanza pubblica e della cultura in Italia è chiaro che ci sono delle eccezioni attenzione perché poi quando incontri il sovrintendente che vuoi per classe per generazione vuoi per formazione eccetera è leggermente più allora non si limita a verificare e a transennare Pompei ma a pochi passi da Pompei cioè nel sottomare dei campi Flegrei ti realizza la piattaforma di visione multimediale delle città dei campi Flegrei quelle come si chiama Bacoli Cuma e via dicendo quelle che stanno sotto e che vi invito ad andare a vedere perché è un'esperienza esaltante che potete fare davanti al vostro computer per cui diciamo che è chiaro che per fortuna qualche eccezione c'è però è evidente che quando il sistema è questo siamo nelle mani della sensibilità personale di qualcuno il direttore ah sì 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 Annalisa Cicerchia questa Cicerchia è la responsabile della valutazione delle bolive culturali per conto dell'Istat e quindi è naturalmente un personaggio che è abituato a lavorare con i numeri pur essendo lei provenendo lei dall'Università Roma 3 nell'ambito del management della cultura un paese che arretra sotto il profilo dei consumi e delle competenze spesa pubblica regista una flessione del 60% a livello di beni culturali negli ultimi 5 anni e i problemi a suo avviso hanno diversa origine il punto critico sono i decisori non c'è la committenza interessata a dirigere le politiche culturali con una visione con un sogno che rappresenti un punto d'arrivo di che cosa farsene della cultura non sta parlando Victor Hugo sta parlando una statistica per mestiere questa fa la statistica anche se lo fa non sui dati occupazione PIL eccetera ma lo fa sui dati della cultura sperando che si senta bene vorrei ascoltare l'intervista all'analisa Cicerchi L'utilità dei dati nel misurare l'impatto della cultura è fondamentale perché noi non riusciamo sicuramente a collocarci in un itinerario ideale tra quello che siamo e quello che potremmo essere se non cominciamo a contare se non cominciamo a prendere un po' di riferimenti quindi è molto importante sapere per esempio quanti sono i musei in Italia pensiamo addirittura che non si riesce a sapere quanti sono i musei in Europa non riusciamo ad avere un totale sapere che i musei non sono soltanto i 420 musei statali che vengono grazie all'attività del ministero misurati regolarmente ma sono dieci volte tanto se non qualcosa di più è molto significativo perché ci permette di seguire questi fenomeni molto più da vicino quindi io credo che il contributo molto elementare umile dell'individuazione e della misurazione ci aiuti a prendere le decisioni giuste poi c'è una cosa che i dati non si potranno mai raccontare cioè non ci potranno mai dire quello che bisogna fare certo se oggi noi vediamo che l'età della popolazione non legge libri o che il 70% della popolazione non ha frequentato nemmeno una volta all'anno un museo o un istituto archeologico che cosa sia meglio o sia giusto fare non sono i dati a dovercelo dire certamente i dati però possono costituire un bel sostegno per chi ha le punte e diciamo per chi ha il desiderio la volontà o la responsabilità di prendere decisioni l'intervento di Annalisa Giserchi a Ravello Lab è stato molto più devastante di come non sembri da questa intervista che evidentemente ha dovuto sintetizzare lei ha messo in crisi il suo sistema di valutazione della cultura perché è evidente che nel momento in cui lei ammette che non sanno in Istat quanti sono i musei in Italia al di là dei 400 che sono timbrati stato italiano sta dicendo che i suoi dati sono assolutamente veletari e così per attività meno sensibili dei musei musei che in linea di massima i visitatori sarebbe una cosa abbastanza sensibile se soltanto si avesse la base dati di partenza ma immaginiamo agli eventi culturali in senso lato che cosa a questo punto manchi in termini di misurazione per cui diciamo che da questo punto di vista anche qui gli articoli di Cicerca che trovate in rete sui temi della misurazione della cultura sono interessanti ancora due videi questa volta presi da Artlab Lecce che sono uno di Roy Van Dalm che era presente a Lecce è docente di industria creativa in un in un'università Harlem dei Paesi Bassi ed è di fatto uno dei giornalisti più accreditati in campo europeo di economia della cultura prima di Van Dalm volevo semplicemente ricordare giusto per fare un paragone con il nostro ministero dei beni culturali come sono strutturati ve lo dico in due parole i ministeri della cultura in Francia e in Inghilterra allora in Gran Bretagna il ministero che si chiama Department for Cultural Media and Sport comprende le competenze di due punti arte industria creativa spettacolo moda turismo patrimonio storico quindi il patrimonio storico inteso come elemento infrastrutturale magari è un caso che sta per ultimo non è una gradatoria di importanza però è uno degli aspetti ma non l'unico su cui il ministero ha pronta le sue attenzioni in Francia il ministero della cultura ha tre indirizzi media e industrie culturali quindi in Francia lega i media con le industrie culturali creazione artistica design thinking patrimonio culturale quindi vedete come c'è evidentemente un'accezione che naturalmente poi avrà le sue conseguenze in termini di assetto funzionale del ministero rispetto a queste cose allora sentiamo questo giornalista che scrive e che insegna economia della cultura questo olandese on the one hand è un'accezione ma anche su livello smart, su casa smart, su mobilità smart, su transporte elettrico, su gente smart e su cultura smarte. Quindi è una definizione molto broad. E credo che una smarte città è una città che utilizza il compagno di persone, di creadores culturale, ma anche del governo locale, politici e del settore business, e delle loro persone in soluzione problemi di quella città. Quindi in questo aspetto non è molto diverso dal concetto di una città creativa, che è sempre sempre interpretato come una città di creadores e artisti. Non è vero, sono solo una parte di questo. Usi la creatività di molti settori, usi la smartness di molti settori. Questo rende una città smart. La contribuzione della cultura per creare una città smarte è grande. non è solo nei eventi culturali, che creare la città di creare. Ma è in due cose. È in creare che molte persone partecipano nei eventi culturali, quindi l'opportunità delle eventi a molte persone. Secondo, artisti, designatori, festivalli, persone del sector culturali hanno un'altra forma di approcciare un problema. Si lo guardano da diverse parti, multidimensionale. E' questo approccio che la cultura per creare, che è molto importante usare in ogni tipo di problemi, o che sia la tecnologia, o che sia per le cose carboni neutrali, o che sia per vivere, o che sia per la inclusione sociale. Quindi la partecipazione delle persone. Quindi il approccio che il settore culturale ha. È molto importante. È molto importante. che ho aspettato, ma ho ho spero che due cose che vanno che sono molto importante. Il primo è che vediamo l'aspetto del smartness e creatività in un senso broad, non in un senso largato. Il secondo è che c'è una discussione molto abente tra diverse settori. Culturatori, politici, persone del negozio. C'è una cosa molto importante. Quindi l'opennità per ottenere nuove idee, per guardare la smartness e per guardare la cultura e la creatività in un senso broad. Ho spero che questo avrà. La cosa simpatica quando ascoltiamo questi interventi, che non è che ci dicano delle cose così difficili da condividere, o che per noi possono risultare la novità. Oggettivamente, questo insegna economia della cultura, cioè non è che sia un giornalista che da niente. Di cosa ha parlato? Della capacità di considerare la cultura creativa e il pensare cultura come nesso di congiunzione e di costruzione di progetti di sviluppo dal decisore politico all'operatore culturale al cittadino. Ci sembra una cosa così ovvia quando parliamo quando parliamo di progettazione partecipata, quando parliamo di co-working, quando parliamo di tutte queste cose di cui siamo ormai sufficientemente edotti. E che ci sembra strano, no? Che siano gli elementi di una rassegna nazionale che Fitzcarraldo organizza a Lecce ogni anno e che quest'anno è stato di notevolissimo successo. Evidentemente su questo c'è molto invece da lavorare. Non vorrei aprire una parentesi polemica, ma è più forte di me. Se penso alla procedura che è stata seguita per scrivere il dossier di Lecce Capitale della Cultura, non so fino a che punto siamo stati in linea con questi processi. Giustamente Silvia Costa e altri diranno che la idea dell'Unione Europea di fare ogni anno due capitali della cultura di due paesi diversi, come sapete noi saremo nel 2019 insieme alla Bulgaria se non sbaglio, è un'idea importante, no? È un'idea importante. Ci sono città che sono rinate attraverso i finanziamenti perché poi arrivano un po' di soldi che naturalmente è la cosa che più sta a cuore ai sindaci e in teoria anche ai cittadini. E però, insomma, se devi scrivere un dossier e ti affidi a dei grandi, diciamo, artist manager, perché stai partecipando? Forse dovresti spiegarla. Non so se qualcuno di voi ha avuto la ventura, sbarra sventura, di andare ad ascoltare la presentazione del dossier in Aula Magna dell'Università di Lecce cinque giorni fa, prima che la delegazione del Comune di Lecce partisse lancia in resta per andare a presentare il dossier al Ministero dei Beni Culturali, rispetto al quale, se non sbaglio, oggi dovrebbe esserci l'atteso responso. Se leggete il giornale di oggi, leggete che il sindaco di Lecce, che è persona che, peraltro, io stimo al di là di qualsiasi parte politica, si dice fiducioso. Allora, avete letto il dossier? Allora, lasciamo stare. Non siete stati alla presentazione. Ok, vi siete evitati di trovarvi davanti a un'aula più o meno numericamente, diciamo, pari a quella nostra di oggi, nell'Aula Magna dell'Università. Il che vuol dire che all'Officina Ergot, noi oggi, Eureka, abbiamo riempito la sala, all'Aula Magna dell'Università riempiamo la prima fila. Era così. Primo punto. Quindi, chiediamoci come mai la marea di associazioni e soggetti che hanno partecipato alla gestione partecipata di questa candidatura non ci fossero. Cioè, il momento più bello, no? Perché sta ben detta cosa è stato un vaso di Pandora perché circolava solo in lingua, sì, ma non lo potete vedere, sono circolate delle sì... Cioè, era il momento in cui finalmente questa cosa era pure in lingua italiana per cui comprensibile a tutti. Eravamo quanti siamo qui la mattina. Punto primo. Punto secondo. Capitale della cultura. Allora, uno dice, capitale della cultura, diciamo, i mezzi di proiezione con gli strumenti fondamentali delle tecnologie dell'innovazione te li giochi tutti, no? Cioè, stai dicendo, aspiriamo a diventare capitale europea della cultura? Mi vuoi fare una presentazione del dossier con dei mezzi leggermente più funzionanti di quelli nostri di oggi che al confronto sono eccellenti? Non nel senso che si sentisse male, ma nel senso che le slide erano disegnate in modo tale che Serena le ha fatte queste, ma molto meglio. Non è soltanto un problema di fare slide, è un problema che se non attivi in quella situazione un, diciamo, un utilizzo di strumenti dinamici di visualizzazione tecnologica come le mille opportunità digitali che oggi c'hai di rendere interattivo un discorso del genere a Ravello ci hanno stupito con effetti speciali che Anna Bruno ci dice che sono già vetusti eppure siamo rimasti così. Cioè, io sto dicendo in questo momento la mia sciocchezza quotidiana dopo tre minuti, ma forse addirittura meno, la mia sciocchezza quotidiana viene vista dietro e poi davanti accanto a me che parlo. Cioè, tutte queste piccole cose che rendono un incontro veramente un pochino più interessante. Niente, niente. Le slide erano pa, pa, così. Questa è la seconda cosa. Sulla terza sono un po' meno presuntuoso, nel senso che siccome conosco, diciamo, di nome per carità queste persone che hanno avuto ruolo nella scrittura non mi permetto di giudicare il loro lavoro dal punto di vista della candidatura. Dico che per tre quarti della illustrazione quello che è stato detto e poi a leggere il dossier, cosa che io quella sera per curiosità mi sono andato a fare, scritto molto bene, dove i concetti di cui abbiamo parlato fino a questo momento trovano dimora assolutamente legittima e pertinente. Si parla della cultura come volano di crescita sociale, civile, partecipazione, incubatori, tutta questa roba qui. Per favore, potrei avere io la mente obnubilata. Andate però a leggere. Perché per tre quarti di questo dossier, se tu lo prendi e lo sposti alla candidatura al capitolo europeo della cultura, 2019, della città di, scusate, non se ne vogliono quelli di Mestre, parlo di una città più brutta d'Italia, Mestre, non so se la conoscete, se la portate nella candidatura di Mestre, questa cosa, ci va benissimo. Non fa una piega. Non c'è lievito. Il lievito improvvisamente appare in una serie di obiettivi di tipo a livello di eventi e di elenco della spesa che nella parte finale poi viene fatta ed è l'unica che poi riporta improvvisamente il lettore «Ah sì, stiamo a Lecce», perché c'eravamo completamente tersi per strada. E c'è ancora una nota a margine che voglio fare. Il fatto che io dico che possa essere tranquillamente adibita a Mestre senza nessun problema la dice lunga. Cioè non ho capito, leggendo il dossier, perché Lecce deve aspirare a questo ruolo. Non si capisce. Abbiamo parlato per anni del fatto che dovevamo liberarci dalla prosopopea promozionale del nostro barocco, perché Lecce è anche altro, anche dal punto di vista architettonico questa volta, barocco, 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 barocco. E vabbè, ma non passiamo da un estremo all'altro. Cioè la parola barocco, che tutto sommato è la connotazione storica più notoria a Firenze del Sud, l'Atene delle Puglie e via dicendo, non viene nominata. Per cui se Piazza Armerina partecipa alla candidatura perché ha i mosaici, vuoi dire che Lecce partecipa perché è figlia del Seicento, dei palazzi del Seicento e delle chiese del Seicento, naturalmente proveniendo anch'essa dalla Magna Grecia. Cioè questa cosa la vuoi dire o ritieni che chi valuta la tua candidatura insieme ad altre venti, mi sembra, no? Perugia, Venezia, Pisa, Palermo. Cioè ci sono città che hanno, diciamo, la dignità culturale almeno pari alla nostra, no? Allora, tu hai parlato di Palermo senza parlare degli arabi, dei normanni e via dicendo? Tu parli di Pisa senza parlare della Repubblica Marinare? Cioè, come ti collochi nella valutazione storico-culturale? Vi prego di credermi, non c'è scritto che noi siamo una città barocca. Dillo in un rigo, dillo alla fine, nasconditi, ma dillo. Perché se no, capitale della cultura, perché? Solo per la notte della Taranta, che fra l'altro non è a Lecce, a me il pignano che mi risulti. Qui, voglio dire... No, no, non è manco citata. Quindi, voglio dire... È citata? Ah, è citata. Ah, sì, sì, hai ragione, hai ragione. Ci mancherebbe altro. In quanto, diciamo, volontario e filocinante della massima della candidatura, mi permetto di fare delle informazioni. Bene. Sulla presentazione del gilbo sicuramente c'è stato un ritardo... Sicuramente c'è stato un ritardo sotto il punto di vista della comunicazione. E quindi è stato comunicato agli operatori, ai cittadini... Ecco, all'ultimo momento. Qualcuno non l'ha ricevuto. Sì. Probabilmente qualcuno non l'ha ricevuto. Anche nell'organizzazione, insomma, della scrittura, ma tutto quello che c'è stato a monte, nel coinvolgere attraverso dei laboratori, non so chi ne ha conoscenze o più meno. C'erano delle persone che risposse, insomma, occupati di determinati settori. E voglio aggiungere anche, c'erano tante persone, studenti, volontari, e non è stato facile. Perché effettivamente tutto è iniziato un po' in ritardo, sicuramente. Ma la base è stata comunque quella della partecipazione. Cioè, io parlo anche da cittadina, da comune cittadina, e ho notato questo sforzo disumano, visti i tempi, di chiamare tutti all'attenzione di questa cosa. Perché chi più chi meno voglia credere a questa cosa, o senta la propria città in grado di candidarsi, ecco. E' un sentimento, una sensazione soggettiva. Io, da persona da Salentina e da cittadina appunto leccese, ritengo di avere delle tradizioni culturali, delle stratificazioni anche generazionali notevoli e lodevoli, al di là di come poi si presentino, al di là del bene culturale materiale presente, che è stato citato o non è stato citato, perché comunque il dossier doveva avere questa visione anche molto futura. E io, nonostante le problematiche, nonostante, diciamo, il coinvolgimento volontario, voglio credere in questo futuro. che sia poi la candidatura, ma al di là della candidatura, che ci siano proprio persone singolarmente in grado di fare o di creare qualcosa qua, in questo luogo dove siamo, insomma, con tutte le difficoltà. non vuole essere una, ecco, lanciare questo messaggio per forza positivo, perché io stessa, voglio dire, mi rendo conto di tutte le difficoltà. però vedo le persone e vedo chi si impegna, vedo, insomma, anche le realtà che ci sono notevoli e magari sì, c'è qualche pecca, sicuramente, nella sesura, però voleva avere questa anche visione a lungo termine. Ecco, si parla di questo. Ovviamente poi, siccome prevede determinate tappe l'intera candidatura, ecco, se si dovesse passare quest'ulteriore, poi, diciamo, preselezione, forse si farà più concreto il tutto, ecco, sicuramente. Però, ecco, mi sono... Allora, io innanzitutto sono contento che... Perché ci sono persone dietro, ecco, volontari. Sì, per carità, beh, immagino che non sia stato... Oltre che professionisti. Immagino che non stava scritto su internet il dossier, quindi questo non c'è dubbio. E il fatto che... Allora, chiarisco, e non era mia intenzione aprire, ovviamente, anzi, io sono molto contento che tu abbia lavorato in quel gruppo, anche perché il lavoro volontario è un lavoro che nobilita. Peraltro, siamo partiti da Victor Hugo, abbiamo detto che il cittadino deve... Ha il diritto di recuperare con la convenzione di Faro la propria reddita culturale, per cui diciamo che siamo a cavallo in questo che tu hai descritto e io ammiro il tuo entusiasmo. Ti dico semplicemente che in questo momento stiamo attendendo un responso come Roma attende di sapere se viene scelta per fare l'Olimpiadi piuttosto che eccetera. Per cui diciamo che siamo tutti quanti in religiosa attesa. Se io o chi come me, anche quelli che ufficialmente e politicamente fanno opposizione a questa amministrazione, non è il mio caso perché io faccio il tecnico, però anche quelli che possono pensarla come me, semplicemente perché ho letto il dossier e ho assistito a quella manifestazione a cui sono andato molto speranzoso. Quindi lo spirito era quello tuo e però evidentemente ho notato queste cose. Naturalmente se io in questo momento volessi danneggiare questa candidatura, per carità io non so nessuno per danneggiarla, ma se volessi cavalcare diciamo le insoddisfazioni che sono tipiche poi di ogni prodotto finale, ci mancherebbe, non c'è l'unanimità né dei consensi né dei dissensi. Non mi costava niente, non più nella mia veste di tecnico, ma nella mia veste di ex amministratore di questa città, che ha fondato all'epoca il programma urbana di cui Raffaele Parlangeli giustamente l'altro giorno ha detto partiamo dal programma urban, benissimo, allora avrei potuto chiedere al quotidiano di ospitare un mio intervento, ma in questo momento non sto personalizzando, di chiunque la pensasse diversamente. Come vedete non c'è stato un intervento contro il dossier, neanche l'attuale opposizione di Palazzo Carafa, penso a Carlo Salvemini che è sempre molto operativo anche nelle sue posizioni, non stanno dicendo niente ed è giusto così, nel senso che vediamo come va, perché poi alla fine se per caso dovesse andar bene sarà per i nostri meriti, sarà perché le altre 18, 19 quanti sono? No, ne fanno 5, quindi 15, l'hanno scritto peggio di noi, cosa possibilissima a questo punto e a questo punto il discorso si riapre probabilmente con una spinta di tipo partecipativo, realizzativo ancora maggiore e un pochino più confortata dal fatto che hai superato l'esame, il primo esame, ora te la giochi con 5 sul filo di lana e a quel punto non badiamo a spese, in senso etico voglio dire. Questo è il senso del mio discorso, però voglio dire in una circostanza di questo genere, di questo genere, beh non potevo, visto che la cosa rimane qui ed è una situazione tecnica e non abbiamo nessuna influenza, voglio dire, sulla accettazione della candidatura, è chiaro che la lettura del dossier, con tutto il rispetto, non tanto per Alan Berg, quanto per chi ci ha lavorato e ha avuto l'entusiasmo tuo, beh il mio giudizio è di attesa, di discreta attesa rispetto a un prodotto che giudico mediocre rispetto a quello che poteva essere. Punto. No, no, ma sì, sì, certamente, un intervento ha fatto una ragazza alla fine... Micro? Sì, scusate, perché la ragazza è... E la ragazza ha detto, una cosa giusta alla fine della presentazione, ok, del beatbook, ha detto, noi non abbiamo bisogno della scrittura di un beatbook, di, appunto, elogio, eccetera, perché le risorse umane e a livello materiale dei beni culturali sul territorio ci sono già, e questo è vero ed è sacrosanto, al di là che vengano poi pubblicizzate, non pubblicizzate, che portino economia o bene o male, io, appunto, io stessa, diciamo, ho fatto uno studio approfondito sulla valutazione economica di un evento in particolare, su delle distorsioni, eccetera, quindi come si può gestire male una risorsa culturale, però ci sono già, ci sono le persone, ci sono le persone creative, le persone in grado di fare le cose, ecco, quindi al di là della candidatura, questo voglio sottolinearlo, ho del beatbook, sono convinto, sono convinto di questo. Questa cosa da giovane, da giovane che anche, voglio dire, nel contesto odierno non è facile per nessuno, sono convinto. Di questa cosa sono convinta a prescindere, ecco. Nel tuo intervento, se mi consenti, prendo anche come momento di socializzazione d'aula la cosa più interessante, no? Cioè tu stai dicendo l'esperienza che abbiamo vissuto, lo spirito che ha contraddistinto la tua partecipazione insieme a quella di altri 10, 100 volontari, e quello che ne deriverà sia, mi permetto di dire, se la candidatura viene approvata, sia se non viene approvata, è questo un elemento di lavoro, di esperienza, di motivazioni, di pensare insieme, di co-working, di partecipazione, di cui questa città ha incredibilmente, drammaticamente bisogno. Da questo punto di vista, la tua esperienza, come quella di chi altri in ogni caso lavora, non su dossier così ambiziosi, ma su pezzi di lettura del futuro, che tutti noi abbiamo il diritto di sollecitare e di pretendere, penso che questo sia tutto sommato quello di cui stiamo parlando da due ore circa, no? Cioè nel tuo intervento, di cui ti ringrazio, abbiamo parlato di incubazione, abbiamo parlato di progettazione integrata, abbiamo parlato di giovani energie che fanno valore insieme, abbiamo parlato di design thinking, abbiamo parlato delle cose di cui stiamo discorrendo da due ore senza avere naturalmente il crisma da parte tua, di nessuna autorità, no? O di nessuna università dietro, ma semplicemente con la tua esperienza. Naturalmente, come te, che ti sei immolata in questo lavoro, penso, molti di voi, no? Con la progettazione culturale e con la progettazione di un foresight, con una visione del futuro, penso che ci stanno a misurarsi ogni giorno, chi da operatore, chi da ricercatore, chi da studente, chi da neolaureato, chi da professionista, chi da imprenditore, chi da docente universitario, come quelli che abbiamo sentito, e come quella che sentiamo ora, che insegna alla Bocconi economia della cultura. E quindi questa fase di cui stiamo ragionando, diciamo che ha un punto con l'intervento di Paola Dubini, che insegna alla Bocconi economia della cultura. In breve abbiamo radunato una serie di promotori di bandi per nuove idee o nuovi progetti di imprese culturali o sociali. La cosa che è interessante è che questa idea di fare dei bandi per idee di nuove iniziative, lo strumento specifico del bando è una cosa abbastanza nuova, perché negli ultimi 18 mesi ho rilevato che ci sono una ventina almeno di istituzioni che oggi erano tutte presenti e che vanno dalle tradizionali fondazioni bancarie che ci sono sempre state e che da sempre sostengono la cultura, a queste si sono aggiunte anche il lavoro di incubatori, di associazioni culturali, di fondazioni di impresa che non avevano mai investito in progetti di stampo culturale o sociale e che invece hanno recentemente deciso di lanciare dei bandi anche consistenti in termini di dimensioni del premio. Perché andiamo da iniziative, da bandi che premiano delle idee con 3.000, 5.000, 10.000 euro a bandi che sono disposti ad investire fino a un milione di euro per un solo progetto in denaro, consulenza, comunicazione etc. Perché è interessante questo fenomeno? Un po' perché lo strumento del bando inevitabilmente permette di fare venire fuori una serie di progetti in poco tempo e in numero consistente che altrimenti sarebbero molto difficili da mappare. Quindi per una persona come me è già interessante vedere come grazie a questo siamo riusciti a far emergere circa più di 4.000 idee in un periodo di tempo molto ristretto. Naturalmente l'altra cosa che succede è che trattandosi di un bando che deve trovare pochi vincitori, il dato del numero di progetti presentati e il dato delle risorse disponibili per premiare il vincitore è un dato molto parziale perché in realtà quello che è successo è che attorno a queste idee c'è stata una quantità di lavoro enorme da parte dei proponenti, delle giurie e naturalmente dei gruppi di progetto che hanno presentato l'idea che da un certo punto di vista hanno tutti lavorato per cercare di dare senso a che cosa vuol dire fare impresa in campo culturale che per alcuni è un ossimoro ma in realtà che sforza inevitabilmente anche per le logiche di costruzione di questi bandi a riflettere sulle condizioni di sostenibilità ma a quali condizioni un'idea può trovare le sue gambe. Ora devo dire avendo seguito il processo in alcuni di questi casi che rispetto alle attese di alcuni bandi va riconosciuto che i progetti presentati talvolta sono molto deboli ma non perché non siano state presentate o non sia stato fatto un lavoro serio da parte di chi le ha presentate ma proprio perché è estremamente difficile mettere insieme cultura, rapporti con una serie di interlocutori e trovare la quadra in termini di occupazione e di possibilità di continuità nel tempo. Quindi questo diciamo uno dei risultati di questa mattinata di lavoro è una consapevolezza su quanta strada ci sia da fare in questo campo anche perché quello che noi vediamo è una grossa vitalità e un tentativo da parte di una pluralità di attori privati di sostenere il mondo della cultura dal basso ma al tempo stesso una fatica a affiancare un insieme di risorse pubbliche che sta invece inevitabilmente arretrando senza una rete. Da un lato il risultato di questa giornata di lavoro ci insegna che c'è una consapevolezza, una voglia di partecipare sia da parte dei proponenti che da parte di questi intermediari che si sono fatti carico di sostenere o di fare la loro parte nel sostegno di iniziative culturali e sociali. Ma dall'altra parte che noi continuiamo ad avere un grosso bisogno di un salto di qualità da parte dell'istituzione pubblica e di una presa in carico di una serie di responsabilità rispetto a un aspetto centrale per il nostro essere cittadini di questo paese. Quindi io credo che se da una parte è davvero incomiabile la volontà di collaborare, di fare rete e di trovare modi nuovi di sostenere la cultura, l'arte, il sociale da parte di una serie di operatori e questo non significa che stiamo ragionando a come sostituire un attore privato rispetto al ruolo istituzionale degli enti pubblici. È interessante che non ha caso di un economista perché chiama in causa ruolo pubblico, ruolo privato. Come se avesse ascoltato l'intervento della nostra amica di prima, dice che il fatto che lei ha partecipato, il fatto che lei ha collaborato, il fatto che lei ha creduto, eccetera, è di per sé valore, però chiama in causa il concetto della sostenibilità, senza il quale molte imprese creative scontano, pagano pedaggio. Ora, nella slide successiva, però attendi un attimo Serena, nella slide successiva vediamo che cosa sta accadendo in termini di indotto economico e occupazionale. Però, dicevo prima con Giorgio Caracciolo che nella vita fa i piani finanziari per le imprese e non solo, che probabilmente è vero che forse oggi da Regione Puglia, parliamo della nostra interlocutrice istituzionale più auterevole, venga non già una nuova edizione riveduta e corretta, ma uguale alla fine dei bollenti spiriti, con tutte le diramazioni, ritorno al futuro, volenti spiriti, laboratori urbani e via dicendo, quanto di un sistema che a limite escluda anche la contribuzione diretta alla società che si va a prevedere di costruire, ma la doti di strumenti di accompagnamento e assistenza assolutamente credibili e che sono quelli di cui poi la Regione ente finanziatore si fida, in virtù del quale gli analisti finanziari, gli analisti di impresa, gli analisti di mercato e coloro i quali accompagnano le idee business delle imprese, quelle classiche, diciamo così, le manufatturiere per intenderci o i servizi avanzati si spostino sul campo dei progetti a valenza culturale e quindi indichino in maniera assolutamente credibile come parare, come modificare, come rimediare e come dirigere una strategia che a tutti gli effetti deve essere una strategia imprenditoriale e mi pare che l'intervento degli economisti in questo caso sia assolutamente fondante. Vi propongo una cosa, se facciamo la pausa qui andiamo in default, per cui io mi impegno a finire prima, nel senso che facciamo un'ora, all'una e mezzo ce ne andiamo, però andremo avanti, anche perché io vorrei proprio dieci minuti lasciare un attimo poi il microfono come d'altro quanto abbiamo già fatto senza nessun problema, però io devo arrivare a Europa Creativa e quindi in questo momento se mi dilungo siamo un po' fregati. Posso o ci sono obiezioni? Dieci minuti di caffè? Come volete? Però vi prego, proprio dieci minuti perché abbiamo da sentire il ministro Brahi che è direttamente chiamato in causa nelle cose che diciamo e poi il programma Europa Creativa. E lo fai, tu non puoi rimanere... Io purtroppo devo andare, non ero preparato, non credevo che durasse... Facciamo questo, questi dati ora li commentiamo, ci vogliono pochi secondi e ascoltiamo l'intervento che il ministro Brahi ha fatto a Bari dieci giorni fa circa in occasione di un convegno abbastanza interessante su cultura e mezzogiorno dove c'è stato anche il patrocino della Presidenza della Repubblica, cioè organizzato da FederCulture. Dopodiché Fabio voleva un attimo farci una sua osservazione e quindi poi dedichiamo l'ultima mezz'ora, quindi dall'una all'una e mezzo per le analisi delle slide di Europa Creativa che, voglio dire, su cui parlerò pochissimo perché le slide parlano da sole e perché poi sono quello che tecnicamente a voi servirà se dovete cimentarvi su questa partita. Parlavamo di valore economico, eccetera, l'occupazione delle industrie culturali, sono dati del 2012, quindi anno già di crisi, cresce dello 0,8% in Italia, i lavoratori passano dal 5,3 al 5,6 dell'intera forza lavoro, producono valore aggiunto per 76 miliardi di euro pari al 5,4 del PIL. Ricordate che siamo partiti dall'8% del PIL che è la media europea, ricordate che abbiamo detto che in Italia stiamo dal 4 al 7, ricordiamo che abbiamo detto che in Giappone stanno al 15 e che se per caso in Giappone e in Sud Corea aggiungono il 25 che rinviene dalle industrie tecnologiche che arrivano al 40, 25 più 15, noi siamo al 5,4, non siamo sottoterra, ovviamente siamo lontani anche dalla media europea. Ovviamente se si considera l'indotto, cioè attività formative collegate, turismo, specialmente nell'accezione oggi di turismo, attività di ricerca e sviluppo connesse alla cultura, alle famose app e non solo, gli occupati diventano 4 milioni e mezzo e a questo punto la percentuale rispetto al PIL si avvicina al 15%. Proprio lo strutturale vantaggio dell'Italia però nella capacità di veicolare la propria identità culturale e quindi i laboratori dal basso, non quelli qui, il concetto di laboratori dal basso e di cui abbiamo ampiamente parlato, rischia di essere eroso dalla globalizzazione e quindi dall'impero delle tecnologie che a questo punto diventa massificante, diventa poco rispettoso dell'identità e via così. Tutti ambiti su cui invece gli opinion leader, gli stakeholders, gli operatori devono oggi soffermarsi e lavorare per stare al passo perché si fanno sempre più urgenti nuove spinte creative, nuove spinte innovative in quanto per definizione l'industria culturale non può stare ferma. Allora siccome mi sto chiedendo se facciamo il powerpoint di Federal Culture invece che le due interviste, con tutto rispetto per la terza e per Brahi, sì facciamo così perché se no non ce la facciamo. Allora vi faccio vedere il powerpoint di Federal Culture che è il palinzesto che è stato all'origine del convegno di Bari su cultura e mezzogiorno, che era organizzato da Federal Culture, nell'ambito del quale ci sono stati gli interventi sia del rettore Petrocelli dell'Università di Bari, dell'Alessandro la terza che è delegato con Findustria per il mezzogiorno, oltre che la terza, voglio dire, sapete chi è, sapete che cosa fa nella vita e Massimo Prahi come ministro. Però siccome sono interventi, non intervista, una di 11 e l'altro di 18 minuti, a questo punto vi dico che se andate sul sito di Federal Culture, federalculture.it, vi trovate la giornata di Bari di cultura e mezzogiorno e vi vedete i video, non per niente ma perché temo che come al solito accade nelle conferenze delle cose che ha detto la terza, magari a noi ci interessino il 50% delle cose che ha detto Broghi, come ogni buon ministro, ci interesserà il 30% e quindi voglio dire in questo momento rischiano purtroppo di depistarci, mi dispiace perché l'avevo messo apposta, però li trovate. Quindi allora facciamo queste slide, poi un attimo Fabio Novembre e poi andiamo sulle slide di Europa Creativa. Queste sono recitate o no? No, ok. Serve una strategia, Federal Culture è una federazione pubblico privato che raduna le associazioni culturali, le fondazioni, i comuni, lanci, lupi, ovviamente diciamo in un'attività di analisi parallela delle politie culturali e di stimolo nei confronti delle istituzioni. Redige ogni anno un rapporto sullo stato della cultura d'Italia che viene edito dal Sole 24 Ore e che sta regolarmente in libreria che è abbastanza interessante. Nell'edizione di quest'anno ci stanno una serie di rilievi particolarmente sui aspetti economici del fare cultura oggi in Italia che sono interessanti da leggere. Questo è un po' una sintesi della sintesi, nel senso che le slide sarebbero una cinquantina, ne abbiamo selezionate una ventina, sono queste, quindi questo è diciamo quello che state vedendo in questo momento. Cosa dice? Che serve una strategia e indispensabile un disegno strategico di ampio respiro, un ripensamento del modello di sviluppo. Ne abbiamo parlato abbondantemente, non mi soffermo più. Che restituisca la prospettiva e il senso del cammino. Per ripartire dalla cultura, realizzare la democrazia delle opportunità, una coscienza individuale e collettiva per combattere illegalità, degrado e la peggiocrazia dilagante. La prima soluzione di responsabilità è costruire una idea paese. Sono cose che è facile condividere. Mi piace qui riaprire il discorso quando parla del degrado della vita sociale o addirittura della illegalità. Mi piace riaprire il discorso dei paesi nordici che utilizzano la cultura come elemento di qualità della vita per le persone over, 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 che è una cosa bellissima. Andiamo avanti. Roberto Grossi è il presidente di Federal Culture. Colmare lo spread del paese. Per effetto della crisi la classe media si è impoverita. Sono aumentate spereguazioni e forme di illegalità. Attenzione, uno studente su cinque è costretto a rinunciare alla formazione, quindi l'accesso alla cultura non può essere un privilegio. In un mondo diviso fra colte e ignoranti, le politiche per la cultura sono un antidoto potente a questo veleno. Andiamo avanti. Che ci rimane? Crollati nel 2012 alcuni settori del Made in Italy, mobile, tessi di abbigliamento, calzature, non possiamo rischiare di indebolire il già precario sistema dell'offerta culturale o il sistema educativo. E la catena del valore, pensiero, concezione, progetto, prodotto, che era l'origine dei successi del manufatturiero, quando il manufatturiero tirava, con la cultura questa catena del valore apre una porta che rimane aperta. Per quello che abbiamo detto prima, con la cultura non si invecchia mai nella progettazione, a condizione che si sappia stare ai tempi. La bellezza è un bene sociale, l'elogio della bellezza, diffusione dei saperi, scienza, arte, umanesimo, hanno da sempre accompagnato i processi di sviluppo, la cultura serve al benessere interiore dell'essere umano. Lo mette in relazione con la comunità, con gli atti, con i legami, il senso di appartenenza e vediamo, siamo partiti dalla convenzione di Faro, che oggi è la protagonista di questa nostra conversazione, e qui ti dice, i veri destinatari dell'intervento pubblico sono i cittadini, i cittadini, prima ancora che i territori, perché il territorio è un sistema complesso, organizzato, di governanza articolata, i cittadini, l'uomo, abbiamo parlato di visione antropocentrica, che possono così produrre ed esprimere vitalità in sinergia con le imprese, cittadini in sinergia con le imprese. Politei culturali, fotografia di un declino, gli ultimi governi hanno dimostrato scarsa attenzione e assenza di strategie, il governo pubblico della cultura è stato relegato a mera gestione, ne abbiamo parlato, del sovvenzionamento delle istituzioni culturali e dello spettacolo. Nella totale assenza di programmazione si insegue l'emergenza e ahimè, Serena, qua ci sta proprio la reggia di Caserta, mi dispiace, ma andiamo avanti. Pompei, no, non ci soffermiamo più di tanto, dunque, dunque, ultimo collo, settimana su alle case, ok, andiamo avanti. L'Aquila, vabbè, insomma, direi di stendere un bello pietoso, andiamo avanti. L'apparato soffoca le politiche attive, in Italia gran parte dei 1500 milioni investiti dallo Stato in cultura sono destinati all'autogenerazione del proprio apparato e alla gestione della macchina amministrativa. Quando i governi dicono che devono abolire le province, io dico che si parte dalle province, ma dovrebbero abolire un bel po' di enti, naturalmente non sto pensando ai ministeri, sto pensando a questo tipo di organizzazioni assolutamente autoreferenziali che non producono sviluppo. Rimangono le briciole per la produzione dell'arte e delle attività culturali, una inezia per la tutela, praticamente nulla per il contemporaneo, per il settore delle arti contemporanee e per favorire le nuove espressioni artistiche. Andiamo avanti. Rilanciamo l'intervento pubblico nella cultura, lo diceva anche Paola Dubini, la parure della burocrazia, le mancanze di risorse, l'intervento dello Stato improntato alla mera gestione, occorre introdurre un fondo per la progettualità culturale. Fermati un attimo perché questo concetto lo vedremo ripreso nel programma Europa Creativa e rappresenta la prima autentica novità. Chi c'è stato nel workshop dell'altro pomeriggio l'altra settimana ricorderà che io annunciai che nell'Europa Creativa c'era un pezzo che era assolutamente nuovo ed era proprio il valore della progettualità staccato in questo momento dal progetto chiave in mano che rimane naturalmente l'obiettivo finale di una qualsiasi attività di progettazione ma che a volte rischia di vedersi dall'inizio handicappato dalla mancanza di supporto finanziario che un giovane gruppo creativo, un giovane gruppo di professionisti ha nel momento in cui deve progettare perché progettare facendo leva sul lavoro volontario di tanti giovani appassionati è un conto e si scrivono documenti, dossier e auguro tutto il bene del mondo ma progettare un progetto che chiama in causa interventi infrastrutturali, interventi sulla catena del valore, interventi sui ritorni economici, interventi di sostenibilità, interventi di fattibilità e un costo sotto tutti i punti di vista. In linea di massima noi paghiamo il fatto che non esiste in questo momento uno strumento finanziario che consenta a un gruppo di giovani professionisti di progettare. Andiamo avanti. Rilanciamo l'intervento pubblico, abbiamo già detto, occorre un ministero che sia un centro di coordinamento autorevole e anche snello nelle politiche e competenze assegnate. Necessità di un coordinamento orizzontale, esteri, ambienti, agricoltura, ricerca, istruzione e verticale su regioni ed enti locali. Sull'esempio della Francia, ridefinire la ripartizione dei programmi del budget ministeriale dando più spazio agli investimenti e alle spese per la diffusione della cultura e per la produzione culturale. Una politica pubblica debole allontana i privati, negli ultimi anni i risorsi provenienti dai privati sono in costante diminuzione, dal 2008 meno 42% le sponsorizzazioni, meno 35% l'erogazione delle fondazioni bancarie. Economia immateriale per valorizzare i territori, a Lenz in Francia nel 1986 il tasso di disoccupazione era pari al 15%, oggi è il polo culturale più importante della fabbrica del Nord. Milioni di visitatori all'anno al centro Pompidou. Scusate, sto accelerando perché se no non ce la facciamo. Sì, vabbè, il valore del brand del Colosseo varrebbe a 91 miliardi di euro. Andiamo avanti. C'è ancora un'Italia che vince, la liuteria cremonese, esportazioni pari a 3,2 milioni di euro, il marmo di Carrare, esportazioni pari a 521 milioni di euro, il design, la lirica, il piccolo teatro di Milano coproduce uno spettacolo al Chicago Shakespeare Theater in occasione dell'anno della cultura italiana negli Stati Uniti, eccellenze italiane citate nel rapporto di FederCultura. Abbiamo questa nota. La fruizione culturale, vabbè, anche questo ve le vedete sul sito, non ci soffermiamo, crollano i consumi, cittadini abbiamo già parlato, sostenere i consumi culturali attraverso la detraibilità delle spese per la cultura, è un aspetto che inerisce più i fiscalisti, però potrebbe essere interessante. andiamo avanti. I festival, andiamo avanti. Il decreto spending review, perdiamo il capitale umano, quindi di nuovo il discorso delle competenze, vabbè, ci possiamo fermare. Queste slide ve le vedete anche in questo caso, complete, non con questa velocissima e un po' affrettata sintesi che ho fatto, ve le vedete sul sito di FederCulture, presentazione, rapporto 2013. Prima di passare a Europa Creativa, Fabio Novembre, scusami. Allora, io sono il fratello di Fabio, ragazzi. Scusami, scusami Andrea. Mi metto qua perché li voglio vedere da me. A proposito di parlare di... Mi scuso se dopo questo intervento dovrò andare via, ma ho i minuti contati anch'io. No, io vi vorrei raccontare la mia esperienza. Sto appena venendo ora da Sorrento, dove c'è stato Obi, che è praticamente un meeting tra banca e imprese dove si parla di cultura. Ragazzi, si sono sentite delle aberrazioni pazzesche, contrapposte ad altre molto interessanti. Quelle che io trovo interessanti sono quelle d'apertura, del perché questi meeting. Il perché è fondamentale. Innanzitutto cerchiamo di capire che cos'è il termine cultura e cosa voi intendete per termine cultura. Io mi sono trovato a Lecce Capitale 2019 e tutti quegli incontri artisti. Io lavoro nel campo dell'arte e curo diversi artisti. E mi trovavo tutti questi artisti che ognuno credeva di essere lui l'unto e pensava di essere lui l'ecce capitale della cultura, lui e le sue proprie idee. No, non è così che funziona. Purtroppo viviamo in un mondo egoico ed egocentrico dove ognuno cerca sempre o crede di essere lui il centro di tutto. Io sono per la condivisione e credo che mai come in questo periodo della nostra vita bisogna anzi fare un passo indietro e cercare di pensare in un termine collettivo e non individuale. Primo. Secondo, quando si parla di cultura, io non credo... Noi siamo un paese che ha fatto cultura per millenni e oggi siamo forse il paese che fa meno cultura in assoluto. Ma perché c'è una decadenza, questo sembra retorica ma è così, c'è una decadenza che è tangibile, è pazzesca. Io quando ho sentito l'ecce capitale della cultura ho detto però potrebbe essere una rinascita, un neorinascimento. Io credo, auspico sempre in questo neorinascimento culturale, ma non credo che qua ci sia il substrato affinché questo possa esistere, affinché questo ci possa essere. Siamo comunque una città estremamente periferica che però ha sempre creduto, i suoi cittadini hanno sempre creduto di essere un po' il centro del mondo. Io ho sempre sentito parlare i leccesi come quando parlano di Lecce credono che sia il centro del mondo. No ragazzi, purtroppo non lo siamo. Anzi vi invito a viaggiare a muovervi di più per capire che non siamo assolutamente il centro del mondo. Il centro del mondo è altrove. A noi è rimasta questa presunzione e questo è rimasto anche in ambito italiano, questa maledetta presunzione di essere i numeri uno. Ma finché non ci spogliamo di questa presunzione e ripartiamo da zero e ci azzeriamo e cerchiamo di ripartire in termini di collettività, questo non c'è. Cultura. Cultura non è soltanto un bel quadro, non è soltanto una bella conferenza come questa che tra l'altro mi spiace che ci siamo quattro gatti oggi a parlare di cultura a Lecce ragazzi, veramente quattro. Se avessimo fatto oggi un incontro su Lecce Calcio forse eravamo il doppio e questo ti demoralizza ancora di più. La cultura a volte è anche riscoprire i nostri veri valori. Noi come leccesi, qual è il nostro contributo alla cultura? Cosa intendiamo noi per cultura a Lecce? Il barocco? Il barocco è del 600 ragazzi. Non possiamo mica rifarci ogni volta sto cazzo di barocco, scusate il termine, che un po' è la nostra spada di Damocle, per forza letti come barocchi. No, cerchiamo di andare anche oltre. Cosa può essere Lecce per noi e perché Lecce? Noi siamo forse una bandiera, un emblema di quello che poteva essere la cultura contadina, la cultura primordiale, l'agricoltura, la condivisione di beni e valori che oggi veramente non esistono più. Quindi cerchiamo proprio di ritornare veramente a quello che è il nostro primordiale concetto di cultura. Cerchiamo di bypassare il concetto di cultura che sia soltanto un qualcosa legato necessariamente all'arte, perché non sempre l'arte o solo l'arte è cultura. Perché non ci poniamo da un punto di vista? Tutti si staranno proponendo con questa capitale della cultura in una certa maniera. Io l'avrei letta in maniera completamente diversa, Ettore. Io avrei candidato Lecce come un ritorno alle origini, come un concetto di resilienza. Resilienza, ragazzi, è il concetto di adattamento a quello che sono i nuovi temi ambientali e sociali. Resilienza, secondo me, è veramente il concetto forse più attuale di cui oggi si potrebbe parlare in assoluto. E poi avrei puntato su quelli come argomento. Sulla condivisione, sul ritorno alle origini, sul fare un passo indietro individuale e ritornare a un collettivo. L'avrei letta in maniera completamente diversa. Ma questa è soltanto la mia opinione che io sto qui a raccontarvi. E comunque la cosa, ritorno al concetto iniziale da cui sono partito e poi chiudo, anche perché sto cercando in pochi minuti di darvi la mia esperienza. La cosa che mi è piaciuta del lobby, Ettore, era che l'inaugurazione era appunto di rimettere l'uomo al centro di tutto. Stiamo parlando di banche che finanziano la cultura? E quando mai le banche hanno finanziato la cultura? Mi spiego. La banca ha interessi economici e molto spesso gli interessi economici vanno contro quello che è il mio concetto di fare cultura. Cioè la cultura non si deve muovere attraverso un concetto economico. La cultura parte dal basso, quindi esattamente dalla parte opposta di quello che è la visione bancaria. Io, ragazzi, sono sicuramente uno che ha una forma mentis trasversale. Non ce l'ho con le banche e non sto lì a cercare di fare una rivoluzione. Cerco soltanto di invitare le persone a fare dei ragionamenti che siano di respiro un po' più ampio. E mi auguro di potervi rivedere presto e ricontinuare questi discorsi. Ma ecco, quello che vi invito, su cui vi invito a riflettere, è cercare di mettere veramente l'uomo e la condivisione e la resilienza e l'eudamonia, l'eudamonia e la felicità collettiva e non individuale al centro di tutto. Questo può essere l'unica base su cui costruire le fondamenta di una nuova cultura. Punto. Il mio intervento finisce qui. Solo questo vi volevo dire. Nient'altro. E vi ringrazio per avermelo fatto dire. Grazie Andrea. Grazie anche della originalità, perché naturalmente queste cose dette da un product designer come te, da un architetto, da un imprenditore, anche no, perché insomma novembre, che improvvisamente affida... Io anche ringrazio te, che stimoli con queste riunioni dei pensieri, no? Dei pensieri, siete tutti giovanissimi ragazzi, io vorrei veramente pungolarvi su questo e perché c'è gente come Ettore che vi pungola e vi fa riflettere e vi invita a parlare? E vi invita a parlare? Beh, allora è veramente un ottimo punto di partenza. Io vi ringrazio ancora, ringrazio Ettore per questo intervento e spero ce ne siano altri, con molta più partecipazione, soltanto questo. Grazie Ettore. Ancora grazie Andrea. Buona giornata e buon proseguimento a tutti. Arrivederci. Bene, allora, in ritardo, ma non in ritardo irreversibile rispetto al programma, Europa creativa, no? Però se da un lato sembra che siamo arrivati tardi, ho l'impressione che se avessimo cominciato stamattina dicendo Europa creativa, si fa così, così sono i bandi, così si scrive, cioè probabilmente avremmo un attimo, un humus in meno rispetto a quello che forse abbiamo confrontato, probabilmente non dicendo nulla di autenticamente nuovo per nessuno, ma riuscendo, come spero di essere riuscito, a dare una visione un pochino più organica delle premesse con cui oggi vogliamo progettare cultura, alla luce di un programma come Creative Europe che, vi ricordo, è la prima volta che viene pubblicato. Perché fino a ieri, nella programmazione 2007-2013, ve ne erano almeno due da cui prende spunto, che sono il programma Media, Media 2 e via così, e il programma che si chiamava molto semplicemente Cultura, un programma che non è andato benissimo e su cui, diciamo, si sono appuntate le ansie di modifica da parte della Commissione. Il programma viene annunciato nel 2011, dopo varie vicissitudini, oggi viene varato con un budget di 1.462 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. Ovviamente questo budget è riferito a tutti i 28 Paesi della Unione. È un materiale di sostegno per industrie culturali e creative che costituiscono un'importante fonte di occupazione e di crescita. Ora potete seguire in maniera un po' discorsiva, poi più tardi, su queste cose, più tardi, fra poco, su queste cose ci saranno delle slide abbastanza esplicative. Il nuovo programma stanzierà, come vedremo, più della metà del budget a sostegno del settore cinematografico e audiovisivo, l'ambito coperto attualmente dal programma Media e diversi milioni di euro per il settore culturale in genere. La Commissione, inoltre, quello che diciamo prima, intende stanziare fondi per un nuovo strumento di garanzia finanziaria destinato a consentire ai piccoli operatori di accedere a prestiti bancari e destinerà diversi milioni di euro a sostegno della cooperazione politica-culturale, ovviamente, e delle strategie innovative in tema di audience building e di nuovi modelli imprenditoriali. Come vedremo più tardi nelle slide, c'è un pezzo del programma che è la garanzia sulla progettazione, la garanzia sulla tua idea creativa, cioè garantisco io, Commissione Europea, alle banche, che ahimè oggi è un passaggio assolutamente epocale. Supporto ai produttori indipendenti le coproduzioni europee e internazionali, la circolazione e distribuzione di film europei, stiamo parlando della parte ex media per intenderci, sostiene l'industria cinematografica anche attraverso il sostegno al doppiaggio, la sottotitolazione, l'audiodescrizione. È previsto un sostegno per le sale cinematografiche che programmino una quota significativa di film d'autore europei e per tutte le iniziative che valorizzino la diversità culturale, festival, rassegne e la mobilità di artisti, operatori culturali e prodotti. Obiettivo non secondario è l'ampliamento e la formazione del pubblico, il cittadino. Attenzione particolare ai giovani professionisti del settore, agli artisti emergenti, per loro il programma prevede uno specifico supporto nell'acquisizione di competenze, con particolare riferimento alle tecnologie digitali attraverso rete e piattaforme di scambio. Sosterrà le azioni innovativi e i nuovi modelli di business e di gestione. Abbiamo detto quasi un miliardo e mezzo di euro per i prossimi sette anni divisi fra tre subprogrammi cultura, media, sezione trans settoriale. A media sarà il 56% del budget, a cultura il 31%, a sezione trans settoriale il 13%. E in questa sezione che è previsto è il fondo di garanzia che sollecita e garantisce i prestiti alle microimprese. Creative Europe prende le mosse dalle esperienze risultati dei programmi precedenti. nel 2007-2003, ah dunque, è un incremento di investimento comunque del 9% rispetto al scorso settegno, perché avevamo allora 755 milioni di euro con ulteriori 15 milioni di euro per il programma Media Mundus. Invece in questo caso abbiamo uno stanziamento maggiore rispetto ai due programmi dello scorso settegno, alla somma di due programmi. È stato approvato con 21 voti a favore su 22 dalla Commissione Istruzione e Cultura e Parlamento Europeo, ultimo passaggio prima del voto definitivo in sessione plenaria a Strasburgo, previsto per il prossimo 18 novembre, cioè questo prossimo lunedì. È attesa per il dicembre 2013 la prima call for proposal, la prima chiamata. Bene, siamo perfettamente in anticipo, se per caso abbiamo tempo possiamo anche vedere qualche altro video, però mi interessa che sulla scorta di questa introduzione che abbiamo fatto ci gustiamo le slide che Silvia Costa ci ha mandato e che raccontano non soltanto Europa Creativa ma come Europa Creativa si innesta in questo momento nella strategia cultura dell'Unione Europea. Andiamo avanti. Questa è quella di prima? Ok. Allora, la base legale abbiamo detto oggi, trattato di Lisbona, non ne parliamo perché è troppo noto, quello che parla del primato del sapere rispetto alle politiche di sviluppo e quindi alla cultura, alla storia dei paesi europei. La Convenzione UNESCO 2003 sul patrimonio culturale tangibile e intangibile, attenzione alla nostra ormai assodata distinzione fra patrimonio materiale e patrimonio culturale immateriale. Quello che diceva tutto sommato andiamo a novembre poco fa. La storia di Lecce non è patrimonio materiale, è un patrimonio immateriale su cui oggi i banditi chiamano. L'ultimo bando della Fondazione con il Sud per le regioni del Mezzogiorno sui beni culturali parlava di interventi di valorizzazione dei beni culturali immateriali perché voleva naturalmente evitare che arrivassero miriadi di domande per ristrutturare la Chiesa delle Clarisse che era in abbandono. Voleva che in una Chiesa delle Clarisse ristrutturata si facessero delle cose di valore culturale immateriale. Ne consegue direttamente l'applicazione del principio della eccezione culturale negli accordi bilaterali dell'Unione Europea. Costituzionalizzazione legittima dell'intervento dell'UE in termini di tutele e promozione del patrimonio culturale e paesaggistico. Si passa da questo alla costruzione di un'economia dalla conoscenza, Lisbona, al libro verde che abbiamo citato prima sulle industrie culturali e creative che riguarda anche le imprese creative in senso lato. Competenze sui nuovi profili professionali, networking, digitale eccetera. Quindi la prospettiva come quarto pilastro per lo sviluppo sostenibile in ogni caso configurato come vero diritto esigibile e misurabile. Convenzione di Faro. Europa 2020, la strategia per la crescita intelligente, inclusiva e sostenibile. La Commissione europea ha definito un nuovo programma finanziario pluriannale che sosterrà la programmazione. L'importo totale della programmazione europea col 12-20 è 960 miliardi di euro, definito dopo una lunga trattativa nella quale il Parlamento ha ottenuto un contenimento dei costi. La Commissione ha attribuito al programma cultura l'importo di 1,4,6,2 miliardi di euro, come abbiamo detto, inferiore alla richiesta che era di 1,8 miliardi ma superiore del 9% alla somma dei due programmi precedenti. Andiamo avanti. Ah, scusami, no, quella di prima. Il programma prevede la clausola della redistribuzione delle risorse non assegnate che non c'è in tutti i programmi europei. Se in annualità il programma non assegna tante risorse quante quelle messe a budget vengono spostate sulla annualità successiva. Viceversa ci sono alcuni programmi in cui queste risorse vanno in economia e vengono destinate ad altri programmi. Andiamo avanti. Allora, cosa dice Silvia Costa? Ma al di là di Silvia Costa, cosa dice la Commissione Cultura del Parlamento Europeo? Che la cultura oggi è presente in coesione, cioè fondi strutturali e quindi PON e POR. È chiaro, no? O Horizon 2020 per le parti che riguardano ricerca e innovazione e quindi le parti che comunque toccano la cultura. Agenda digitale e quindi le tecnologie digitali per tutta la parte multimediale tecnologica dell'agenda digitale. Lo sviluppo rurale, ne parlava anche la Silvia Costa nella sua intervista. Se vi andate a vedere in questo momento il bando del GAL, delle terre dell'Arneo, dico questo perché l'ho visto ieri, non perché preferisco quello ad altri. Vedete, GAL, terre dell'Arneo, il bando che in questo momento è in vigore e finanzia progetti fino a 150 mila euro, sono interventi di valorizzazione integrata del territorio dal punto di vista ambientale, dell'ecosistema e se non sbaglio anche turistico, sbarra agroalimentare. Allora, immaginare una lettura in chiave cultura di un bando di questo genere non è assolutamente difficile. Basta naturalmente lavorare sull'identità e siccome i GAL nascono per valorizzare i territori ad origine agricola, tant'è che come dissi l'altra volta Lecce, città, non ce l'ha un GAL, identificare ambiti culturali su questo è abbastanza semplice. A parte i GAL, tutto il piano di sviluppo rurale e in Regione Puglia ci stanno una miriade di finanziamenti, prevede interventi per i quali è facile immaginare un matching con le politiche culturali. Dunque, qui Silvia Costa ti dice, la Commissione dice che nei fondi strutturali, questi sono i famosi 11 obiettivi nei quali, come abbiamo detto prima, la cultura e il turismo non ci sono. La palla quindi è passata al Programma Operativo Nazionale e alle Regioni perché questi concetti e questi ambiti vengano recuperati nell'autonoma accesso che al piano di coesione ha ogni Stato membro. Non vieno riferimenti alla cultura neanche nel programma Horizon 2020, il Parlamento ha approvato i seguenti emendamenti proposti e quindi nel programma Horizon 2020, quando si parla di tecnologie dell'informazione e comunicazione, si aggiunge tecnologie per i contenuti, le industrie culturali e le creatività digitali. Ovviamente si aggiunge nell'ambito di tutto lo svolgimento e l'enunciato del programma Horizon. Quando si parla di azioni per il clima e per l'ambiente, inquinamento, sviluppo, eccetera, e si parla a un certo punto di settori socio-economico fondamentali, quali ad esempio il patrimonio culturale. Vedete come rientrano parole, no? Che però evidentemente aprono dei varchi su cui puoi poter lavorare, anche in programmi che non sono prettamente culturali. Ha maggior ragione la famosa società dell'inclusione, l'inclusive, le scienze sociali e le ricerche comunistiche possono svolgere un ruolo importante in promozione del patrimonio culturale e identità europea, società inclusiva. E lo sviluppo rurale ne abbiamo appena parlato. Va bene? Va bene? Andiamo avanti. Questi sono in questo momento gli accordi di partenariato in corso fra Stato e regioni per la distinzione fra PON e POR. Vi dissi l'altra volta che la Puglia, insieme a tutte le regioni del mezzogiorno, ancora non ha varato il proprio programma perché sta aspettando di capire come i PON influenzeranno alcune scelte strategiche. E qui evidentemente ci sono una serie di asset che sono tipicamente a valore culturale. Sostegno a modelli di gestione innovativa integrati del patrimonio culturale, qualificazione di servizi innovativi, realizzazione di strutture e infrastrutture, accessibilità dell'offerta. Queste cose, se non tutte una parte, ce le ritroveremo nel FESR, ce le ritroveremo nel POR della regione Puglia, immagino. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Il programma Europa Creativa supporta i settori europei della cultura. Nei settori le cui attività sono basate su valori culturali e o sull'espressione artistica e creativa. Siano esse market oriented e non, quindi sia dichiaratamente profit, sia no profit, qualunque sia il tipo di struttura che la realizza. Tale attività includono la creazione, la produzione, la disseminazione, la conservazione di beni e servizi che comportino l'espressione culturale artistica creativa o creativa e le relative funzioni educative e di management. Queste cose le abbiamo già dette, andiamo avanti. Le sfide per il settore. La prima sfida, la globalizzazione, quindi l'esigenza di una maggiore competitività dell'industria culturale sul panorama mondiale. La digitalizzazione, che sta trasformando le catene del valore per rappresentare un pericolo di ampliamento dell'accesso alla fruizione della cultura e di nuove modalità di riconoscimento e remunerazione dell'opera. Il superamento della frammentazione del mercato, il superamento della mancanza di dati, ricordatevi la Cicerchia che dice che non sa quanti musei ci sono in Italia e lavora all'Istat. Il superamento delle difficoltà di ottenere credito, soprattutto per le PMI. Queste sono le criticità a cui il programma cerca di rispondere. Abbiamo parlato del libro verde e lo studio che abbiamo già parlato, andiamo avanti. Le principali novità e modifiche del Parlamento che sono state poi recepite nel programma, il valore duale della cultura, intrinseco ed economico, l'inclusione del patrimonio materiale ed immateriale, lo strumento finanziario di garanzia sui prestiti, lo stand trans-settoriale e le politiche di cooperazione trans-nazionale, l'accompagnamento dei settori culturali e creativi nell'era digitale, la valorizzazione del luogo di artisti, professionisti e creativi, la valorizzazione della dimensione imprenditoriale, l'allargamento del pubblico, lo sviluppo di nuovi pubblici, l'educazione culturale media e al digitale. Un attimo solo, queste cose, anche queste sono disponibili sul sito di... Beh, comunque poi tanto lasciamo al laboratorio questo materiale, per cui poi casomai lo mettono in circolazione le associazioni del laboratorio. Questi punti, questi magneti, sono sicuramente presenti nelle premesse del bando che uscirà. Allora, attenzione perché quando si legge un bando, si è tentati a volte per brevità, per inesperienza, per fatti contingenti, si va subito a capire che cosa vuole, no? Il bando, no? E quindi naturalmente ci si preoccupa di capire se l'idea che c'ha in mente è in qualche modo coerente con quello che il bando vuole. Perché? Allora, queste sono le cose da cui il bando partirà. E probabilmente ti dirà il bando, se non esplicitamente, ma te lo farà assolutamente intendere in maniera implicita, che nel momento in cui tu scrivi un progetto per Europa Creativa, dovrai soddisfare a qualcuno di questi asset, necessariamente. Forse uno, forse due, forse tre, forse non più di tre, questo sì lo dirà il bando. Ma sicuramente devi scegliere se stai facendo un progetto per valorizzare i giovani artisti, i giovani creativi. O devi scegliere se stai facendo un progetto a fortissima valenza internazionale, dove il valore sta nella rete internazionale. O devi scegliere se stai facendo un progetto per l'educazione digitale. Cioè, su queste che sono le premesse che evidentemente sono entrate in Europa Creativa, fate una scelta a monte, che naturalmente sia la più coerente possibile con la vostra idea progetto. Cercate di capire se siete adeguati a rispondere a una di questi che non sono gli obiettivi. Gli obiettivi saranno dichiarati più esplicitamente, sono le premesse culturali da cui un programma di questo genere parte. Il valore aggiunto europeo, carattere transnazionale, creazione di un'economia di scala, rafforzamento della cooperazione, attenzione al preparato dagli Stati membri e alle regioni europee in situazioni di bassa capacità produttiva. Per cui si affida alla cultura anche il compito immane di recuperare spazi di produttività in regioni a bassa capacità produttiva. Chi può accedere? I settori. Architettura, archivi, biblioteche e musei, artigianato artistico, patrimonio culturale tangibile e intangibile, design, festival, musica, letteratura, performing arts, editoria, radio, visual arts, audiovisivo. Mi pare che ci sia tutto. I soggetti che possono accedere sono gli operatori culturali e creativi, ovvero sia i professionisti, gli artisti, le organizzazioni profit e no profit, il che vuol dire che in questo programma trova spazio anche il soggetto referente che sia profit, che come voi immagino sapete abbondantemente è abbastanza raro che trovi spazio nei programmi direttamente comunitari, perché poi si entra nel campo delle aiuti all'impresa e del de minimis, cioè ci sono situazioni che complicano di solito la presenza degli enti profit all'interno di questi partenariati, però qui a giudicare da questa presentazione sarà consentito quindi anche aziende, in particolare PMI, è chiaro che si eviteranno le grandi aziende attive nei settori culturali e creativi e naturalmente l'ho saltato prima anche istituzioni. I paesi sono tutti gli stati membri più i paesi in procedura di adesione e di preadesione, quindi per esempio l'area dei Balcani, voi sapete a parte la Croazia e la Slovenia ci stanno Bosnia, Montenegro, Albania, Macedonia, che non hanno ancora aderito all'Unione Europea. Paesi EFTA, membri di EA, che sono se non sbaglio Cipro, Norvegia, qualcosa del genere, il programma è aperto ad altri paesi o regioni che accedono attraverso accordi bilaterali per accordi di cooperazioni mirate, ci possono essere situazioni nelle quali anche un altro paese, non dell'Unione Europea, interviene con accordi milati bilaterali, sono casi abbastanza specifici, che verranno segnalati nei bandi. Obiettivi, abbiamo detto che saranno probabilmente indicati più esplicitamente, eccoli qua. Sostenere le capacità dei settori culturali e creativi di operare a livello transnazionale. Attenzione, non possiamo prendere Europa creativa e, diciamo, far funzionare meglio la notte della Taranta. Non è così. Possiamo prendere il valore della notte della Taranta e immaginare una circuitazione della identità popolare attraverso la musica in n paesi europei, ognuno con la sua musica popolare, che verrà poi in qualche modo riassunta in un festival europeo della musica popolare. Chiaramente sto banalizzando in maniera indegna, però, diciamo, tanto per darci un'idea. Quindi, valore transnazionale. Promozione della circolazione, non soltanto quindi dei settori, ma delle opere e mobilità degli operatori. In Regione Lombardia c'è in questo momento un bando bellissimo, che purtroppo non c'è in Puglia, e mi ero ripromesso di suggerirlo al settore di Silvia Godelli qui in Puglia, e ad Annibale Delia con tutta la sua performance, cioè quello dei finanziamenti alle attività di mobilità lavorativa di giovani artisti e professionisti che vogliono trascorrere un periodo di almeno tre, massimo sei mesi, all'estero. Presso aziende di industria creativa, nelle quali siano disponibili a fare attività combinata. Non già, attenzione, con la classica e tradizionale figura dello stagiaire, ma come portatore di competenze della tua associazione, della tua industria creativa, della tua rete, che va a lavorare insieme con una o più associazioni europee. Progetti di minimo 100-120 mila euro, che vuol dire che un'azienda creativa si prende i suoi due, tre manager, design manager, business manager e art manager, e li manda sei mesi in Olanda piuttosto che. Ed è un'iniziativa che evidentemente prelude a qualcosa di questo genere, favorire la mobilità degli operatori, in particolare artisti. Non possiamo partecipare al bando della Gioia Lombardia, ovviamente perché non risediamo in Lombardia, per cui non ci facciamo strane idee. Migliorare l'accesso alle opere in Unione Europea e all'esterno, in particolare per giovani, disabili e gruppi rappresentati. E' bellissima questa introduzione dei disabili, perché apre naturalmente il campo all'accessibilità, apre il campo al welfare e quindi cultura uguale, valore sociale. Rafforzare la capacità finanziaria delle medie piccole e micro imprese, assicurare una copertura geografica equilibrata, sostenere politica di sviluppo, innovazione e creatività, e sviluppo dell'audience. Questi gli obiettivi di Creative Europe. Del budget abbiamo parlato, media, cultura e transettoriale. No, no. Sì, ok. Che cos'è questo famoso strand transettoriale? Creazioni, un fondo di garanzia sui prestiti erogati dalle banche. Tipo di prestiti erogabili per investimenti in asset tangibili, ma attenzione anche intangibili. Voi provate ad andare in banca, anche dove il direttore è un vostro amico d'infanzia o è amico d'infanzia dei vostri genitori, andate a chiedere un prestito, voglio fare un'impresa culturale su un bene intangibile. Vedendo un po' che reazione avrà. Per la mettercela pure se dite che vuole fare un'impresa manufatturiera. Però diciamo, ancora meglio. Quindi si paga questo, si pagano i business transfer, e quindi questo tipo di situazioni che abbiamo immaginato prima, e working capital, quindi finanzia di interim, gap finance, tax incentive, non leggo, cash flow, credit lines e via dicendo. Promozione delle politiche di cooperazione transazionale per scambio di esperienze, raccolta di dati di mercato, partecipazione all'osservatore europeo dell'audiovisivo, ricerca di nuove vie cross settoriali, anche digitali, per finanziare, distribuire e rendere profit le opere creative, conferenze, formazioni, seminari, acquisizione di skills per i professionisti del settore. Tutto questo è lo strand trans settoriale, che quindi prescinde dal vostro progetto, e non vi finanzia un progetto specifico, finanzia il vostro irrobustirvi, dal punto di vista strutturale, di articolazione organizzativa, divisione delle vostre capacità, se volete partecipare a questa sfida incredibile che Europa Creativa suggella. Ovviamente poi vedremo, no? Come il bando andrà a regolare la vostra candidatura a un progetto di mobilità, piuttosto che a raccogliere dati di mercato. Allora, se questi progetti trans settoriali servono perché un soggetto magari terzo, che non siete neanche voi, raccolga dei dati, che poi sono a vostra disposizione, vi ha eliminato il 20% del lavoro di preprogettazione. O, come dicevo prima quando parlavo dei business analyst, che vadano a immaginare la sostenibilità futura di un'idea che voi avete. Allora, se tutto questo è un'assistenza operativa fatta di situazioni chiare, esplicite, che hanno un nome, un consulente, un servizio, uno sportello, un domanda e risposta, allora tutto questo naturalmente aumenta la vostra competitività e la vostra capacità di progettare sui rami di cui prima, cioè media e cultura, che naturalmente rimangono gli obiettivi chiave. Subprogramma cultura, no? Quindi, Europe Creative, i programmi sono media, cultura e gli intersettoriali. La cultura ha questi subobiettivi, rafforzare la capacità del settore con nuove competenze, incluse quelle digitali, rivolgersi a nuovi pubblici, sperimentare nuovi modelli di business e nuove collaborazioni, supportare la cooperazione internazionale degli operatori del settore, facilitare l'accesso alle opportunità professionali, in particolare per le organizzazioni e ai network internazionali, promuovere la mobilità e la circolazione transnazionale degli artisti, allargamento dell'accesso al maggior numero possibile di cittadini, al patrimonio culto europeo tangibile e intangibile. E ormai mi pare che questo tipo di obiettivi sia entrato nella familiarità dei nostri linguaggi. Le misure, progetti, quelli sono i subobiettivi, le misure, progetti di cooperazione transnazionale che riuniscano organizzazioni culturali e creative di paesi diversi, probabilmente questo sì bisognerà obbligatoriamente scegliere la quale misura di candidi, questo sarà sicuramente in alternativa. Attività di network europei di organizzazioni culturali e creative provenienti da paesi diversi, attività promosse da organizzazioni e vocazione europea per lo sviluppo di talenti emergenti per la mobilità degli artisti professionisti e la circolazione delle opere con alte potenzialità, traduzioni letterarie e loro promozione, c'era un programma, no Anna, sulle traduzioni letterarie, no prima, all'interno di cultura se non sbaglio, sì, azioni speciali che diano visibilità alla ricchezza e diversità delle culture europee, come premi europei, European Heritage Label e le capitali europee della cultura. Attenzione, le misure di supporto sono destinate in particolare ai soggetti no profit. Andiamo avanti. Le priorità di media, facilitare l'acquisizione di competenze professionali, tecnologie digitali, eccetera, aumento capacità di sviluppare opere audiovisive adatte alla circolazione all'interno e all'esterno dell'Unione, facilitare coproduzioni europee e internazionali anche con le TV, incoraggiare gli scambi per l'accesso ai mercati, promuovere ovviamente la circolazione transnazionali, quindi sostegno alla distribuzione nei cinema, promozione del marketing transnazionale della distribuzione di opere audiovisive su piattaforme diverse dalle sale cinematografiche, eventi festival, nuovi modelli distributivi per consentire nuovi modelli di business. Misure, sviluppo di misure di formazione che promuovano nuove competenze per i professionisti del settore audiovisivo, scambio di conoscenze inclusa l'integrazione di tecnologie digitali, sviluppo di opere audiovisive europee, in particolare film e opere televisive come fiction, documentari, film per bambini, videogames multimediali con potenziali di circolazione transnazionale, attività tese a sostenere i produttori europei, in particolare i produttori indipendenti, attività di sostegno ai partiti di coproduzione europea e internazionali per ottenere sostegno indiretto per opere audiovisive, facilitare l'accesso dei professionisti a eventi commerciali e mercati e all'uso di piattaforme online in Europa e fuori. Vedete che qui è molto presente la formazione. Ancora continua, sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali, facilitare la circolazione mondiale dei film europei, di film internazionali in Europa, su tutte le piattaforme, supportano la rete di operatori di sale cinematografiche che proiettino una quota significativa di film europei non nazionali, pensiamo a quanto siamo indietro a Lecce sulla programmazione di film in lingua originale, deve essere proprio una novità che forse ogni tanto ormai saresiani, perché non c'è altro, supportare iniziative di presentazione e promozione con una diversità di opere audiovisive europee, inclusi cortometraggi come i festival e gli altri eventi, accrescere l'educazione cinematografica, l'audience, l'interesse del pubblico e del cinema europeo, sperimentare nuovi modelli di business e strumenti nei settori influenzati dalle tecnologie digitali. I risultati che si aspettano devono essere coerenti e complementari con tutte le politiche rilevanti dell'Unione nel campo delle politiche della cultura e dei media, ecco perché ci siamo un attimo prima documentati su quanto l'FSE, il FESR, Horizon e quant'altro prevede come sistema complessivo di approccio alle politiche culturali. Monitoraggio e valutazione, naturalmente sono stati individuati alcuni indicatori quantitativi, due programmi che includano elementi quantitativi e qualitativi, effettiva semplificazione e coerenza con gli obiettivi, valutazione del risultato e dell'impatto di lungo periodo. Queste sono cose che valgono ovviamente per tutti i programmi. Implementazione del programma, atti di implementazione di un programma di lavoro annuale, sui sub-programmi, per i contributi del programma annuale, in cui darà le priorità, le leggebilità e i criteri di selezione e il tasso massimo di cofinanziamento. Abbiamo scoperto in questa slide che il programma sarà finanziato all'80%, come diciamo buona parte di programmi europei destinati prevalentemente al mercato socio-pubblico no profit. No? Siamo in questa dimensione dell'80% e quindi con un 20% di cofinanziamento. Andiamo avanti. Le sfide per l'Italia entro il 2014 realizzare una strategia, una governanza multidivello e più integrata fra ministeri, regioni e denti locali per le politiche culturali con un approccio strategico di valorizzazione di beni culturali, industrie creative e media anche per ottimizzare l'impiego delle risorse e verificare il girimento degli obiettivi. Attrezzare adeguatamente i termini di professionisti, risorse, strumenti e capacità di consulenza strategica presso i desk nazionali di Europa Creativa e prevedere sportelli subregionali. Ovviamente voi sapete che ogni programma ha dei piccoli fondi che sono per la società di assistenza tecnica in questo caso anche il programma Creativi Europe avrà un servizio probabilmente a Roma di assistenza, veramente il programma cultura ce l'aveva a Torino precedentemente e non sappiamo ora a chi verrà dato ma dicono qui che vorrebbero prevedere anche degli sportelli di assistenza regionali. Inserire esplicitamente cultura e turismo negli accordi di partenariato Italia-UE sui fondi strutturali e sui POR regionali. È chiaro che questa coincidenza che in parte è quasi obbligata fra l'uscita della nuova programmazione dei programmi a finanziamento diretto fra cui Europa Creativa e il tavolo di partenariato Stati e Regioni sul dove vanno i finanziamenti del PIO e dei POR è importante perché comunque sta sollecitando un dibattito che non è soltanto fra gli addetti lavori ma è anche politico sull'uso e gli interventi culturali e il valore della cultura nelle politiche di sviluppo. Per cui il fatto che l'uscita del programma stimoli la inclusione di cultura e turismo come specifici obiettivi strategici all'interno del POR del piano di coesione è chiaro che è un fattore positivo. Le Regioni dovrebbero promuovere l'intesa col Ministero dei Beni Culturali e col Dipartimento del Turismo perché ricordiamoci noi abbiamo il Ministero dei Beni Culturali che è un ministero e il Dipartimento del Turismo che oggi come oggi è un servizio della Presidenza del Consiglio non è neanche un ministero. Questo è un po' la situazione. Lasciamo stare il Ministero della Cultura che non c'è del design che non c'è della moda che non c'è del patrimonio tangibile e intangibile lasciamo stare. Allora giustamente si dice le Regioni dovrebbero promuovere d'intesa con un maggiore coordinamento e integrazione delle risorse regionali nazionali e europee nelle lavorazioni di sostegno alle politiche culturali e creative. e quindi vedete come è chiaro che le Regioni sono comunque molto stimolate a essere non già soggetti candidati di Creative Europe ma essere soggetti se io fossi assessore regionale ma voglio dire Silvia Godelli non ha molto bisogno di consigli da questo punto di vista io prenderei Creative Europe e elaborerei una piattaforma regionale di lettura di che cosa un programma come Creative Europe può dare alla Puglia coerentemente con gli strumenti del POR finiti ma tanto più che altro con gli strumenti del POR che devono venire nel 2014-2020 abbiamo solo 1,35 è il caso di dire che se ci stanno piuttosto che non se volete possiamo sentire anche Brahi o Alessandro La Terza se volete se no potete farmi delle domande ci possiamo anche andare come volete no è semplicemente sul cofinanziamento perché l'altro giorno la dottoressa De Angelis ci diceva che è al 60% ora lei sta dicendo all'80% solo un chiarimento su questo che mi risulti è all'80% d'altro canto queste slide al di là del fatto che materialmente fisicamente ci ha autorizzato a diffondere l'esilità costa però sono diciamo le slide che derivano dal lavoro della commissione e dal programma che va in discussione quindi sarà un refuso voglio dire da questo punto di vista è chiaro che non abbiamo testi ufficiali su cui lavorare ragioniamo su quello che la rete ci consente però diciamo queste inviterei a consigliare praticamente ufficiali queste slide giusto per capire se era un refuso ma è vero che gli anni scorsi era il 50% sì allora ho capito ma l'albero grazie siamo prego ritiene che il recupero sul versante finanziamenti indiretti può e porre compensi in maniera adeguata il taglio della cultura come asse prioritario vabbè forse è prematuro poterlo dire insomma sì la domanda è giusta è giusto anche dire che è prematuro dirlo naturalmente diciamo che siamo in un periodo in cui onestamente non perché sia nostro concittadino questo ministero questo ministro una sterzata sta cercando di darla ovviamente con i limiti voglio dire della legge di stabilità di tutto quello che ne consegue se no non avrebbe no finanziato il piano musei il piano cultura che diciamo è vero segue la logica tipica no degli interventi di tipo infrastrutturale però voglio dire se finiranno i lavori fra due anni al castello di copertino per usare per parlare di qualcosa di vicino o al castello di Corigliano o che so io beh allora diciamo questo è perché diciamo Braia ha ottenuto una fortissima caratterizzazione culturale che sta questa cosa sta sul sito del ministero per cui diciamo che dal punto di vista degli interventi infrastrutturali in questo momento il ministero sta comunque cercando di recitare una sua parte nonostante nonostante Pompei nonostante Caserta nonostante tante contraddizioni AIPOR naturalmente che per quanto riguarda i beni culturali possono cogliere parzialmente alcuni flussi finanziari perché chiaramente diciamo il nostro patrimonio che avrebbe bisogno di interventi è tale che ci vorrebbero un bilancio europeo non nazionale per poterci stare dietro ciò non toglie e ciò nonostante anche Regione Puglia in questo caso l'assessorato all'urbanistica ha comunque fatto qualcosa ISAC il bando dei musei quelli più piccoli che sono che è uscito da poco la gradatoria dei finanziati sta su internet sta sul sito della Regione e vedete che lì andiamo su musei veramente poco poco tradizionali no? cioè la Regione sceglie giustamente ecco il bisogno che le slide indicavano della massima concertazione se tu Stato intervieni sul Castello di Copertino che è un signor Castello no? onestamente o Castel del Monte meglio ancora io Regione intervengo sul museo dell'archeologia industriale di Maglie io Regione intervengo sul museo paleontologico sempre di Maglie io Regione intervengo sul museo di arti naturali di Calimera cioè ecco intervengo su musei considerati minori quelli che probabilmente Antonella Cicerchia non sa censire non può censire non che non li sa e però sono ogni volta poi interventi di 2, di 3, di 400 mila euro questo nella programmazione 2007-2013 questo per dire naturalmente che questo unito a una serie di altre incentivazioni di tipo culturale diciamo un pochino più ridotte un pochino più residuali comunque dovrebbe rassicurarci sul fatto che nei por questo tipo di presenza se non altro la Regione Puglia la vorrà accogliere la vorrà privilegiare insisto nel considerare estremamente innovativo quell'aspetto di Creative Europe che finanzierà la progettazione e che garantirà un gruppo imprenditorale creativo rispetto a un prestito ma pure di 30 mila euro non sto dicendo che con quello dovete fare l'impresa dovete verificare con quello la fondatezza ovviamente quando siete a un livello ben più avanzato della semplice idea ma la fondatezza del vostro progetto di impresa che poi vi sostanzierà laddove doveste decidere di accedere a finanziamenti più importanti ecco se come spero quel tipo di intervento a garanzia servirà anche indipendentemente dal vostro successivo candidarvi a Creative Europe ma servirà nella vostra attività ordinaria di operatori della cultura dell'arte del design e via dicendo probabilmente sarà veramente molto importante perché le banche non potranno più accampare alibi insomma bene allora vi ringrazio di aver resistito fino a quest'ora attendiamo a questo punto diciamo tanto ne parleranno tutti diciamo i canali specializzati naturalmente però vi invito vi invito vi invito a dare un'occhiata a questo punto al sito istituzionale per eccellenza che è Creative Europe lo trovate naturalmente è un sito della Commissione Europea che equivale ovviamente al programma e quindi da questo momento in poi se vi interessa questa la prosecuzione di questa esperienza e la sua tramutazione in termini progettuali ovviamente ci sono soggetti che sono a disposizione anche per darvi una mano non sto parlando di me che diciamo peraltro sono sempre abbastanza disponibile chiunque voglia avere un consiglio ma insomma in questo in questo parterre si sono avvicendati in questi giorni vedo qui Andrea Coluccia vedo Lucia Vincenti si sono avvicendati diciamo dei professionisti che ognuno per la sua parte diciamo curano tante cose all'interno di questo tipo di attività e spesso lo curano veramente anche in maniera abbastanza disinteressata voglio dire penso per esempio al ruolo di opera aforisma nel campo della formazione cioè se noi parliamo di management della cultura in termini anche intraeuropei cioè sarebbe molto interessante andare un pochino più irrobustiti o perché no mettersi a cogestire momenti di formazione partecipata su temi emergenti quali quelli che il programma prevede quindi penso che e penso ad Anna con le aziende di information technology che abbiamo visto sta sempre nel corridoio prima del salone della cultura c'è sempre quella no ormai no perché diciamo che è un po' difficile prescinderne e quindi direi che ci sono tutte le condizioni perché comunque non dico tutti ma qualcuno di voi si cimenti in questa impresa grazie 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 grazie